Ed eccoci qua, stiamo in diretta con Germano Milite, che meraviglia Germano, grazie di essere qui, la fuffa è imperante, ma noi siamo qui per provare a contrastarla, grazie, grazie veramente di essere qui Germano, è un piacere. Grazie a te Alessandro, grazie a te Alessandro per il graditissimo invito che ho accettato, mi sono fiondato subito, è un grande piacere. È una cosa meravigliosa, devo dire che vedo un po' i colori della tua camera che ogni tanto vanno e vengono, non so cosa sia. Sì, è vero, è un problema di zoom che fa questo blu, passi dal rosa al verde, sei multicolor, senti che va bene lo stesso, tanto l'importante, o abbiamo anche già qualche contestatore in chat, non vedo l'ora di vedere Germano. Sì, sì, sì. Allora, prima di tutto però, siccome ci sono anche delle persone che vivono sotto una roccia, chi è Germano Milite? Cioè, se qualcuno non dovesse sapere chi sei, che cosa fai, quali sono le tue attività, come ti descriveresti? Beh, come un giornalista professionista che dal 2010 ha cercato di portare avanti la propria attività in due direzioni, provare a fare anche impresa e tutelare i consumatori, da chi fa impresa e quindi provare a fare impresa e comunicazione e tutelare i consumatori da chi fa impresa e comunicazione in maniera, diciamo, non proprio etica e non proprio illegale, insomma, del tutto illegale. Tra l'altro tu hai fondato un gruppo di cui parleremo perché ci sono delle cose fastidiose che sono accadute nell'ultimo periodo di cui dobbiamo parlare, che si chiama Fufflix, di cui tra l'altro trovate in descrizione il link per andare a vedere il canale YouTube che è partito da poco, però ha già 3.000 iscritti. Non soltanto andate a iscrivervi al canale, ma sostenetelo, io sono un fiero sostenitore di Fufflix, nel senso che pago, pagatevi, abbonatevi, tipo 2 euro. Tu sei membro Fufflix, lo diciamo, sei membro, hai preso, hai preso la parte. Voi non lo sapete, ma in realtà Germano mi paga sotto banco perché io... Soprisiono io indirettamente, tu me ne dai 10. Esatto. In realtà, Germano, tu nell'ambiente eri già conosciuto da un bel po', però diciamo che nell'ultimo anno, forse il caso che ti ha fatto esplodere agli occhi del grande pubblico è stato il caso di Matteo Saba, perché per anche la tua partecipazione al Cerbero, ne avete parlato, c'è stata tutta una situazione di cui poi parleremo. Tra l'altro io ero dentro il gruppo e ho visto nascere questa situazione, è stato bellissimo, perché un giorno Germano ha detto io adesso mi metto a scavare su questa persona e da lì poi è successo un disastro, quindi andiamo con ordine, ma prima di iniziare con le domande, perché ho un sacco di cose di cui parlarti, voglio leggerti il commento del contestatore, perché per iniziare subito. Subito, andiamo, andiamo. Ma questo, Amerigo Quadrelli, perché qui ci siamo, è la chat pubblica, quindi Amerigo Quadrelli dice, ma questo Germano Milite è il vecchio amministratore della Insem? È quello che non ripaga i suoi investitori? Io volevo subito farti... circa 20.000 euro di arretrati tra stipendi e compensi non presi, liquidazioni non prese, un anno dopo, un anno dopo che io sono andato via Insem purtroppo, questi sciacalli fanno doppiamente schifo, per cui sono andata in difficoltà come tante aziende. E danno la colpa a te. E non è riuscita a ripagare uno dei prestiti. Allora, tra l'altro, io ho dato spazio al contestatore, perché è giusto farlo, cioè Amerigo scrive anche Nextus, sempre sua, non restituisce i soldi. Amerigo, Amerigo, chiariamoci. Io non sono Germano, Germano dà il diritto di parola a tutti, io sul mio canale mi rompo le palle, quindi se vuoi contestare Germano va benissimo, se vuoi continuare a spammare, al prossimo ti banno, non mi interessa niente, quindi sappiatelo. Ma poi è falso, guarda Alessandro, questo anche lo posso dire, perché andate sul situto trasparente, non è vero che non restituisce i soldi. Ma anche perché, poi, contestare le cazzate è il mio lavoro, no? Quindi quando le scrivo, io le contesto quando le scrivo su altri, i figuri quando le scrivo su me. Non è vero, è un'altra falsità, andate sul portale, vedete che semplicemente è stata fatta una ridistribuzione del piano di rientro. Fine. Cosa legalissima che hanno fatto una... Quindi è falso anche questo. Andiamo sul tema. Comunque basta, basta, torniamo sul tema, perché è giusto dare spazio, però anche basta. Allora, Germano. Prima di tutto, come è nata la tua missione, quasi, cioè, la tua crociata contro le cazzate online? Perché, visto da fuori, visto da una persona che comunque, io per esempio, voglio dire, nel mio settore, non in tutti i settori del mondo, ma nel mio settore anch'io ho combattuto le cazzate, la fuffa, però io l'ho combattuto per motivi personali. Cioè, io sono stato il primo, l'ho raccontato tante volte, il primo pollo, e quindi quando parlo di non fatevi fregare, non parlo dall'alto in basso, ma io mi sono fatto inculare da tutti, ok? Quindi sono cascato in tutti i corsi pseudo-scientifici, in tutti i multilevel mark, li ho fatti tutti, ok? Quindi avevo un motivo per... Quando mi sono ripreso, avevo un motivo personale per andare contro a questa gente, perché sono cose che mi hanno fatto male. Visto da fuori, la tua sembra veramente una cosciata personale. Allora ti domando, anche tu, come me, hai una ragione personale, oppure semplicemente ti sono girate le palle e hai detto, adesso mi metto a scavare? Allora, io ti devo dirti che sono rimasto fregato da qualcuno direttamente, no. Ci hanno provato, questo sì. Fregati amici, parenti, questo sì. Ma la mia battaglia è personale per una sorta di vocazione. Cioè, forse è che molti di questi personaggi, spesso, hanno anche di atteggianti da bulli. Dico questo sfigato che commentava prima in chat. Cioè, sono delle piattole particolarmente moleste e io le ho sempre odiate, fin da ragazzino. I bulli. Sai, sai, i guri, i guri, perché io ero bullizzato. Io non ero bullizzato, non sono mai stato bullizzato, ragazzi. Io cenavo. Io ero grotto, ero grotto. Quindi non ti bullizzavano, capito? Io non mi bullizzavo per quel motivo, quindi io non sono mai stato bullizzato, io avrei potuto bullizzare, ok? Ero tra quelli che potevano essere i bulli, ok? Per proprio la mia, a parte la conformazione fisica, io fin da piccolino avevo la lingua lunga, quindi prendermi in giro era difficile, perché io riuscivo a ribattere mettendo in imbarazzo chi provava a mettere in imbarazzo me. Quindi non ho la classica storia strapparabile di chi ha subito, poverino bullismo, perché è pieno di ragazzi, tu lo confermi, è pieno di ragazzi e ragazze che, ma soprattutto alle medie, ragazzi e alle medie, i ragazzini sono attivissimi. Io anche avevo i miei soprannomi, ma ce l'avevamo tutti, ok? Quindi non ero quello che stava al centro e veniva bullizzato. Io mi sono stancato di vederli vincere. Cioè a un certo punto vedevo questi cazzari che imperavano ovunque, poi sono entrato nel 2011 nell'ambito start-up, tu non hai idea lì. Ah, io non conosco bene quel mondo, c'è tanta merda. Quanta fu, sì, tantissimo. È uno di quelli dove ce n'è di più. Gente che raccoglie milioni proponendo il nulla totale. E quindi mi dispiace tanto per questo sfarfallio totale con il completo. Ma sei neon, sei vaporwave. Ma notate, la prima volta mi capisco, è sempre la stessa camera, quindi sarà una questione di code, compressione di zoom, non lo so, mi dispiace, ma comunque dicevo, quindi mi è partito dalla volontà di contrastare i fregatori, quelli che fondamentalmente non si guadagnano da vivere e approfittano dei più deboli, approfittano dei fragili, perché il tema è quello lì, cioè il cliente tipo di queste persone è la persona che era bullizzata, era, o è, o è fragile. Tu l'hai detto tante volte, nel momento della sua vita, non anche tu. Io ero uno studente in difficoltà, ero bloccato con l'università e mi sono fatto fregare. Fregare, esatto. E' così, questa gente campa sui cosiddetti pain point degli altri. Quindi io vedo un punto di sofferenza in Alessandro, in Germano, provo ad attaccarlo per prendergli dei soldi. A me fa schifo questa gente, è una missione. Perché un giornalista fa inchieste contro la mafia? Beh, lo fa perché magari, ecco, motivo più personale, la mafia gli ha ucciso un parente, o perché la odia, a prescindere. Fa schifo. Mi fa schifo questo tipo di gente, mi fa schifo questo modo di fare comunicazione. Poi io, occupandomi di marketing e comunicazione, mi sentivo, stai costretto ad adeguarmi a un certo trend, a un certo standard, che effettivamente funzionava. Perché questa è una cosa che va detta, che molte di queste tecniche funzionano. Sì, sì, i cazzari, i soldi li fanno. Li fanno, esatto. Questo è un altro grande tema. Non è che non li fanno, li fanno. Ne fanno anche forse di più di chi agisce in un certo modo. Meno a lungo, probabilmente, oltre che meno a non etica. Meno a lungo, perché poi non hanno una reputazione che nel tempo dura, e quindi devono sempre riciclarsi nuovi progetti. Però sono quelle robe che sai, subito, se tu le fai subito, nell'immediato ti portano su altri risultati. Ti possono portare risultati, sì. Sì, questo per esempio è un tema molto forte. Cioè, ogni volta che io critico, perché poi ultimamente mi sono esposto un pochettino anche di più, io ho cominciato esponendomi contro chi faceva fuffa nel mio settore. Cioè, quello dello studio, della memoria, dell'apprendimento. Formazione. Da quelli che ti dicono, ha capito, tecniche di memoria, passi tutti gli esami all'università in dieci minuti. Quelli che ti dicono, studi le 30 domande più probabili e passi l'esame di anatomie. Quelle cazzate lì. Io mi sono esposto soprattutto su quelli, però poi mi sono esposto ultimamente anche sulla questione, ho fatto delle live su appunto chi promette di diventare ricchi, eccetera, eccetera. E una delle obiezioni che arriva sempre è proprio quella, e vorrei rimanere su questo tema. Beh, ma funziona. Loro fanno soldi. E io vorrei prendermi un minuto con te per discutere di un tema che io ritengo sia fondamentale, visto che questo canale lo guardano soprattutto ragazzi e ragazze, ventenni, un concetto, secondo me, educativo fondamentale. Il punto non è se fai soldi oppure no, il punto è come cazzo li fai questi soldi. Cioè, è questo il punto. Perché anche Pablo Escobar faceva un sacco di soldi, però non è che vado a farmi insegnare il business da Pablo Escobar, o no. Cioè, è questo il punto. Guarda, io te su questo diciamo la stessa identica cosa. Cioè, io dico sempre, non conta se fai solo se fai soldi, conta come li fai, vendendo cosa e a chi. Cioè, se fai soldi vendendo droga ai minorenni. Quindi ho detto, allora, e non solo, conta anche se chi ti sta formando a usare quel metodo, poi te lo dice prima di vendertelo. esempio. Io ho fatto 20.000 euro netti in un mese spacciando droga ai ragazzini fuori alle scuole medie. Almeno è onesto a dirlo, dici. Eh, te lo sto dicendo, no, dall'inizio. Ma se ti dico, ho fatto 20.000 euro con un business legalissimo che puoi fare comodamente a casa, senza rischi, e poi si scopre dopo che ho comprato il corso che devo spacciare droga ai minorenni, e capisci che c'è anche la pubblicità ingannevole, oltre che il mezzo illecito di fare soldi. Quindi abbiamo una doppia problematica da risolvere. Quindi sono assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro, sfatiamo anche un altro mito, perché sennò sembra che si possono fare soldi solo con questi metodi. Non è assolutamente così. Ah, è vero. E si possono fare soldi, tanti soldi, anche rispettando la legge e comunicando in maniera etica, assolutamente. Eh, qui però, qui ti voglio fare un'altra obiezione, perché un'altra delle cose che salta fuori è ma non fanno mica niente di illegale. Tu hai fatto l'esempio di Pablo Escobar, mi dicono ma mica è illegale. E qui c'è un altro punto che voglio chiarire. Il fatto che una cosa non sia illegale non vuol dire che vada bene. Cioè, una cosa può essere legale, ma comunque una merda. Voglio dire, cioè, o no. Non è che c'è soltanto la legge. Tu puoi essere una persona orripilante anche se non violi la legge. Cioè, gli stronzi, chi si approfitta dei deboli può essere anche legale. Cioè, in realtà, manipolare una persona capace di intendere il deboli non è di per sé illegale. Cioè, non è che c'è una legge che... No? E, oddio, potremmo discutere la pubblicità ingannevole delle pagine commerciali, spaventate che sono tutte forme di manipolazione. Però io a questa gente rispondo. A parte che non è legale oggi. Ah, certo. Magari lo sarà tra sei mesi. Quindi non è detto che la schiavitù era non solo legale, ma considerata... Era socialmente accettata. Poi, ha iniziato a essere legale, ma socialmente non più accettata. Ha sempre meno accettata fin quando la pressione sociale non ha portato la schiavitù a diventare una roba illegale. Quindi, quando ti dico ma è illegale, con questo rigidismo, sai, giuridico, paragiuridico, che dici ma se non è legale è tutto a posto. Beh, sono tante pratiche che erano legali fino all'altro ieri. Il delitto d'onore era legale, era legalissimo. Però non è che è bello. Però non è che all'epoca era una roba legale. Quindi molte cose in realtà sono borderline e sono legali, ma sono eticamente censurabili. Esatto. E quindi io vorrei che passasse questo discorso. Devo dire, lo vedo soprattutto frequentando Fuflix, che adesso raccontiamo tra l'altro che cosa è successo e perché Fuflix al momento non è disponibile su Facebook, ma potete andare sul canale YouTube. Vedo che c'è una mania, un'ossessione che forse c'è sempre stata. Però i social, secondo me, hanno esasperato anche in favore dei ragazzi più giovani proprio sul denaro. Cioè, io l'ho detto tante volte, mi sento vecchissimo quando dico questa cosa perché ho 34 anni, mi sembra di averne 65, però quando io avevo 17 anni io non pensavo a fare il grano. Cioè, non era... Io giocavo ai giochi di carte, inutilmente cercavo di trovare ragazze e non ci riuscivo. Quelle erano le mie... Quelle erano i tuoi interessi. Cioè, perché secondo te adesso si è diffusa questa idea che tu a 20 anni devi essere milionario, che bisogna fare i soldi, la Lamborghini a tutti i costi, essere ricchi, sfoggiare il Rolexone, il pataccone. Perché sta roba qui? Tutta questa retorica tossica della fast lane, della cosiddetta fast lane, non so se tu hai letto Autostrada per il successo, un best seller che fa il classico errore di fallacia logica. Prende l'esempio di una persona che evidentemente è riuscita a diventare ricca in breve tempo, entro i 30 anni, come lui racconta, e lo mette a standard. Cioè, ha la pretesa che questa roba, questa fast lane, debba essere utilizzata da tutto il mondo o da tutte quelle persone che vogliono. Quindi, parte da me tutto da lì. Poi tu hai detto, bene, i social hanno amplificato perché oggi simulare un certo stato di agiatezza è semplicissimo. Un orologio, considera che gli esperti di orologi ti dicono che è un Rolex falso, fatto bene, neanche un esperto che lo apre riesce a... E sono un grande appassionato e ti dico che... Da un video, se tu riesci a vedere il mio orologio, è vero, è impossibile. Quindi, il patacchismo imperante e anche, diciamoci, la verità, anche un certo benessere diffuso per quanto poi ci lamentiamo, no? Ci ha portato fondamentalmente ad abituarci a certi standard, a volere sempre di più come regola di vita, con una certa impazienza, cioè, la vita media si è allungata ma pare che qui abbiamo meno da vivere e qui dobbiamo diventare milionari entro i 25 anni, se no siamo dei falliti, siamo persone, siamo persone che nella vita non hanno trovato la loro strada. Io come te, a 17 anni, io giocavo a pallone, io ho giocato a livello agonistico fino a 14 anni e facevo tre partite di pallone a settimana, andavo in palestra, curavo molto il fisico, andavo dietro le fighe, non ti dico, era l'ossessione, era quello, quello era, 90% del mio tempo era trovare una ragazza e starci, ma starci insieme, non ti parlo di ossessione. Sì, sì, certo. Sessuale, ero un grande romantico che soffriva tantissimo, per l'amore aveva dipendenza affettiva, quindi anche lì ho fatto un percorso di terapia quando avevo 25 anni perché ogni volta che rompevo, anche quando rompevo io, questa cosa, rompevo io e soffrivo, stavo male, ovviamente molto peggio quando rompeva l'altra persona, però quelli erano, il mio problema a quell'età erano le relazioni con gli altri, con i miei pari, no? E questa cosa che dici, spesso l'ossessione per il denaro paradossalmente ti porta anche a essere un po' sociopatico, perché tu ti ossessioni sui metodi online per fare soldi, ti chiudi in casa, ti isoli e le tue relazioni sociali vengono abbattute. Io ero un animale sociale a 17 anni, organizzavo eventi, ero sempre in mezzo alle persone e questo mi ha servito tantissimo per crescere, per imparare anche a relazionarmi con l'altro sesso che è la mia grande passione insieme al calcio e alla scrittura, ovviamente, non lo dico col tono dello sciuppa femmine, lo dico perché ero veramente interessato in, non lo sapete, nelle relazioni, ma anche con gli uomini, cioè in generale, cioè con gli altri, ok? E vedo invece tanti ragazzini che a 17-18 anni hanno il sogno di chiudersi in casa, stare su un pc davanti a un computer e fare il grano, capito? E quello, perché lo devono fare, sapessi quanti genitori mi scrivono, dicendo ah, nostro figlio sembra aver perso la testa e vuole comprare questo corso e sta facendo pressioni perché, poi dopo se vuoi parliamo di un esempio che ti ho mandato, lo posso anche non mostrare, lo cito, per capire quanto è forbiante, no? Perché vedi, tu sei un imprenditore, tu hai una città, siete 10, quindi sai cos'è un anticipo IRPEF, sai cos'è l'IVA, sai la differenza tra fatturato lordo e profitto, tra margine operativo lordo, e pretasse, postasse, sai tutte queste robe qua, Certo. quando vedi uno che ti dice, ah, il mese scorso con il mio e-commerce ho fatto 7000 euro, tu dici, significa niente, quanto hai speso per fare 7000 euro? Io faccio sempre, ogni tanto mi chiedono, anche i dati, l'ho fatto, avevo fatto un post, l'avevo messo anche su, su Fooflix, a un certo punto in risposta, c'era qualcuno che mi diceva, ma perché non abbassi, per esempio, i prezzi dei tuoi prodotti, dei tuoi corsi? e io avevo spiegato tutta questa cosa qui, cioè io per dirti, voglio dire, il mese scorso è stato un mese di forti investimenti per noi, agosto, è stato anche un mese di forti incassi, io posso dire, senza problema, con trasparenza totale, il mese scorso noi abbiamo fatturato 100.000 euro, sono tanti, sono pochi, non lo so, di utile, alla fine ce n'erano 10.000, perché è stato un mese di grandi investimenti, cioè, sì, ho venduto corsi per 100.000 euro, però non è che vado in giro a dirti, io il mese scorso ho fatto 100.000 euro, non è vero, non è vero, cioè ho incassato, ma poi c'è l'IVA, poi ci devi pagare la roba, ma magari potete andare in perdita, potete andare sotto, cioè, fatturi, il fatturato di chi, io tra l'altro fece un video dove facevo vedere proprio un caso studio, che vedi poi a volte quanto sui ingenisti, uno che faceva, un ragazzo che faceva la testimonianza a un guru, le classiche, le testimonianze positive, io grazie a lui ho cambiato la mia vita, allora io proprio, sai, calcolatrice alla mano, alla fine del video dicevo, ma sto ragazzo ha perso 3.000 euro, gli sta dicendo che ne ha fatti 7.000, ma ha conti fatti tra margine operativo lordo, era un dropshipping, spese di ADV, spese del corso, un grafico l'avevo dovuto pagare, a tempo suo questo ci ha perso 3.000 euro, quindi voi vedete 7.000 da lì, ma in realtà è meno 3.000, tant'è che questo per andare a cercare un lavoro come lavapiatti il mese dopo, quindi il mese prima era diventato ricco e il mese dopo lavapiatti, e questa roba è pericolosa perché per chi non è un minimo addentro a certi vede 6.000 euro, capito, ragionando da, tu ragiona da persona fisica, 6.000 euro. Sì, sono una cifra incomprensibile. È grossa, no? Sembra, in realtà potrebbero essere nulla. Certo. Anche per il professionista possono essere pochi, perché dipende da quanto hai speso per farli e da quanto margine hai su quei 6.000 euro. Sì, questa cosa qui dei dati messi a caso e poi secondo me anche io ogni volta che sento ho fatto 10.000 euro in un mese, la prima cosa che penso è per una volta. Cioè queste persone raggiungono un obiettivo una volta e poi ti fanno credere che sia così tutti i mesi per loro. Ma non è vero neanche questo, queste attività sono basate su fondamenta di sabbia. Magari un mese le hai fatti davvero 10.000 euro, magari sono anche 10.000 euro netti. Ci sta una volta. vediamo sull'arco di tre anni come è andata l'attività. E lì... Guarda, ti parlo di la società citata dall'imbecille prima, Nexus, che è trovato è tua, è tua, poi vedi, guarda qua il doppio standard di bullismo. Quando andava bene... Ah ma non ti vantare, tu hai solo il 30%, non conti un cazzo. Quando va male è colpa di Germano. Ora che ha dilazionato il finanziamento non paga è tua e non sono neanche più l'amministratore da marzo quella società. Ma comunque quella azienda l'ha fatto 800, ha sfiorato gli 800 milioni di fattuale il primo anno a bomba. Puttala via! Abbiamo cambiato il modello di business mezzo milione. Il terzo siamo scesi ora non so ancora nel bilancio siamo scesi ancora sotto. Quindi come tu dici fare il boom una volta è relativo. Bisogna vedere quanto resisti e la difficoltà è quella cioè è rimanere sul mercato e di tutela crescere perché poi crescere ancora continuare a crescere sempre è proprio difficile ma anche solo rimanere stabili. Quindi molti dicono ah l'ultimo mese ho fatto 20.000 cioè io un mese ho fatto 70.000 euro su quella società un mese ma un mese cioè e quindi la mia vita è cambiata no ho guadagnato bene quel mese mi sono tolto uno sfizio fine là cioè non è che da impiegato sono passato a milionario perché ho fatto 70.000 euro un mese salutiamo in chat Mr. Rip noto fuffaguru che scrive Germano Germano arrestalo ADC è uno scammone ho giocato a scacchi con lui e ogni tanto metteva sulla scacchiera pezzi extra che gli prestava un suo complice arrestalo ammetto che ma stavamo giocando a tourbillon il tourbillon è una variante degli scacchi si gioca a 4 in cui quando tu mangi un pezzo passi quel pezzo al tuo compagno quindi e comunque Mr. Rip ha perso miseramente beh c'è lo schema ADC leggevo nella chat anche lo schema milite c'è lo schema di truffa tra noi truffatori ci alleiamo voglio fare un passo indietro tu sei la cosa più simile ad oggi in Italia a un cofizilla cioè a uno che fa queste indagini veramente approfondite come si imposta un'indagine seria perché dire quello è un fuffaguru quello dice cazzate sono capaci tutti la cosa che differenzia te da quello che faccio io per esempio che do una mia opinione dico quella roba lì non mi piace perché secondo me è una merda secondo me è comunicata male quello che fai tu è molto diverso quello che fai tu è metterti lì e fare delle vere analisi giornalistiche delle inchieste giornalistiche come si imposta questo lavoro da dove come si parte mettiamo che tu adesso decidi che ADC è uno scammone e tu mi vuoi mi vuoi fare a pezzi cosa fai? allora mi è bellissima domanda è bellissimo tema intanto ti ringrazio perché è una roba ecco che devo dire mille domande tutte uguali fino ad ora non me l'hanno mai chiesto questo mi interessa tantissimo è tantissimo interessante sì allora prima di tutto il mio giornalismo quello che io cerco di fare è realmente partecipativo cioè c'è una community ok quindi se io dico ah ADC ha fatto sta roba che è sbagliata ok mi arrivano spesso decine di segnalazioni se ADC ha i suoi schietrucci all'armadio che mi dicono ah come si quello mi ha scammato tre mesi fa mi ha chiesto e quindi io inizio a fare la raccolta delle informazioni ok poi c'è la verifica delle fonti e la verifica delle informazioni stesse che appunto vanno sempre verificate la verifica si fa con strumenti tuoi conoscitivi di competenza e anche intuito dico che ormai dopo 12 anni io sei un sicuro no dico sì qua c'è qualcosa che non va poi otto volte su dieci a secco due volte su dieci no però non vado mai fin quando non sono sicuro come faccio a essere sicuro come ti ho detto con la verifica delle fonti e nel caso in cui io non questo è un lavoro che io amo tantissimo perché ti fa crescere costantemente dal punto di vista professionale e ti dà delle competenze trasversali perché per esempio per fare il lavoro che faccio io di analisi sul socio unico plurimpergiudicato dopo lo raccontiamo la saga di Matteo Saba ormai è cioè sì sì che è sempre lui quell'amerigo quello è lui è lui è Matteo nel frattempo mentre continuavo a spanare l'ho bannato sono rotte le parole basta comunque era lui al 99% perché sono le cazzate che ripete ormai solo lui da solo quindi è solamente lui salutiamo Matteo dicevo lì quando lui parlava di due diligence in realtà a lui gliele facevano ma io ho dimostrato che lui non sa distinguere un conto economico da uno stato patrimoniale quindi l'anno scorso tu lo sai ho fatto un processo ho venduto le quote di maggioranza della mia azienda e abbiamo fatto e l'azienda che ci ha acquistato il gruppo di Alphatest che ci ha acquistato ha fatto la due diligence su ADC è una roba che dura mesi cioè la due diligence non è che la fai in live c'era un lui legge la vittura è un bilancio semplificato e ha fatto la due diligence è complicata la due diligence abbiamo messo mesi io avevo il mio studio di avvocati in contatto con il loro mega studio di Milano e ti chiedono i documenti e vai a recuperarli e i bilanci e le robe è complicato cioè non è una roba la due diligence è una roba che tu ti metti lì che fai così con ragazzi tra l'altro nel mio caso appunto io analizzo i bilanci chiedo per esempio io ho contatti prima ti dicevo delle relazioni umane io ho costruito relazioni umane da quando ne ho memoria e uno diceva giustamente della chat un utente intelligente diceva plot twist per fare i soldi servono relazioni più relazioni buone di lungo termine e di stima reciprocai più è facile che tu nel lungo termine e al lungo faccia soldi e quindi io chiamo l'analista che so che mi può vedere in un bilancio non solo vedere spiegare perché in quel bilancio ci sono gli elementi strani gli elementi che non tornano spiega come funziona il diritto societario in UK perché ha tre società in UK e chiede a chi fa questo quindi la verifica delle fonti è il sostegno supporto di professionisti che hanno specializzazioni che sono verticali su determinati temi ok quindi fiscalista analista business planner illegale l'esperto diritto commerciale l'esperto diritto al consumo e via dicendo quindi è così che tu costruisci innanzitutto una rete di esperti ai quali chiedere confronto per esempio ti faccio un esempio ultimamente il signor Saba dopo essersi bruciato tra i streamer e i calciatori che sono come tu intuirai una categoria di persone alle quali è più facile espilare soldi preso forse dalla rispogliazione da poche idee è andato nel settore nautico ok stiga vuole per lui che io abbia un contatto importante nel settore nautico o non gliene va bene una pro Matteo Saba eh sì che sta già verificando cosa però è la rete di relazioni quindi non è che io germanomite sono tuttologo non sai le cose io ho una rete di relazioni e chiedo senti ma come funziona se c'ha tre barche e poi mi ha spiegato guarda per avere tre barche ci hanno battono bandiera italiana paga le tasse in Italia la residenza in Italia cioè ci sono delle a residenza di Repubblica cieca allora dobbiamo vedere le barche se ce le ha qui o ce le ha tu cioè ci sono delle robe tecniche che ovviamente tu analizzi di volta in volta impari poi e padroneggiare il resto lo fa ovviamente l'attitudine il talento la voglia che hai di studiare e più dicendo però banalmente un'inchiesta parte da una segnalazione ultimamente mi hanno segnalato una truffa da 40 milioni di euro io dico ok datemi la documentazione l'analizzo di avere un minimo di capacità di lettura di testi giuridici perché spesso ci sono sentenze e io ho fatto diritto privato diritto commerciale diritto privato diritto internazionale diritto penale ho studiato tutti questi temi per anni anche da autodidatta e quindi riesco a leggere anche una sentenza e capire più o meno che comprendo sì comprendo praticamente quasi tutto quello che poi non capisco prendo le parti giuro all'avvocato e dico senti ma sta roba che vuol dire e a volte capita che anche l'avvocato non lo sa che si debba confrontare con un collega per dirti quanto sono complicati i miei temi però quello è la competenza e soprattutto una cosa che ci tengo a dire è anche quando prendi la roba sul personale nel mio caso con Sabba era chiaramente personale perché lui sul personale è andato a colpirli dal body shaming sì poi ti chiederò anche di questo mio fratello la mia famiglia cioè lui è andato quindi era personale però attenzione personale non vuole mai dire che tu agisci per vendetto o ritorsione perché altrimenti rischi di fare degli errori quindi ti arriva una falsa pista anche in buona fede me ne sono arrivate diverse di falsa pista in buona fede e io sempre lì è un esercizio della razionalità dico aspetta fammi verificare perché mi piacerebbe capito il tuo bias dice ah questa è una di quelle robe che se è vera cazzo adesso e adesso lo massacro però poi vai a vedere e dici no non è più tu devi sempre essere avvocato del diavolo di te stesso e dei tuoi pregiudizi positivi o negativi è così che diventi un bravo giornalista d'inchiesta cioè quando non segui un cherry picking cioè dici io devo dimostrare che questo è uno scam e quindi qualunque roba anche che non verifica lo dimostri io vado no perché se no rischi di fare un assist come dicevo prima vedi quando mi si accusa di cose senza senso tu ne esci più forte di prima perché chi ti ha accusato lo ha fatto in maniera scomposta io non voglio fornire assist a questi personaggi che si possono attaccare questo dell'integrità dell'indagine è molto bello io ricordo di aver letto più volte tu che in una discussione in cui ti si dava ragione rispondevi con calma questa cosa non è verificata cioè anche quando ti si diceva no ma lui ha fatto questo e tu dicevi un attimo ci sono delle prove perché se no io non la dico questa cosa anche se è a mio favore questa cosa qui molto molto importante fa parte dell'etica del giornalista e poi non sempre purtroppo è così cioè a me mi hanno detto guarda quello ricicla ricicla dove sono le prove che ricicla cioè è una cosa grave dire che uno ricicla dove sono le prove oppure per dirti d'altro l'altro è uscita una chat di lui che parlava con una tipa che poi è un account su OnlyFans e le scriva delle cose insomma un po' da lupato che schifo che vero ragazzi vi devo dire la verità per quanto a me faccia schifo questa persona ma condividere dei messaggi privati ma che c'è una notizia di reato no anzi quelli sono i tipi di messaggi privati che non andrebbero condivisi perché sono la legge anche qui c'è molta ignoranza questo ne approfitto per dirlo esatto se tu Alessandro mi scrivi in privato delle minacce ok o mi parli di possibili reati che vuoi commettere io i tuoi messaggi li posso assolutamente condividere soprattutto se sono giornalista ok non è vero è privato non c'entra nulla che è privato se tu però mi scrivi un messaggio diciamo Germano ho problemi di elezione e io pubblico ah ti faccio un problema di elezione beh quello è chiaro che io ho fatto un esempio estremo è chiaro che io l'ho pubblicato solo per denigrarti non l'ho pubblicato perché c'è un interesse pubblico a sapere questa cosa tra l'altro è un tema anche delicato è uguale a certi messaggi quindi vedi anche lì se avessi ripreso quel contenuto per dire ah che verme questo scrive dei messaggi allupati da malato allupati a una che tra l'altro sta su Instagram mezza nuda e li metteva i cuori lei a lui quindi certo gli stava a dice no era anche consensiente pare di quei messaggi tra l'altro c'erano i messaggi cancellati nella chat quindi mi è stimato quasi in agguato allora persino a persone che non hanno la mia stima nella maniera più assoluta se vedo che ci sono attacchi strumentali io li evito per una questione etica di ontologia ma devo dire anche per una questione cinica mia perché gli do poi no modo di dire ah vedi Milite è accecato si va a colpirmi nelle cose va a colpirmi anche su robe dove non esatto questo è il tema principale del fare inchieste bene secondo me è fantastico e senti però io qui ti faccio un'altra domanda perché nel mio piccolo io adesso è passato sufficiente tempo da qui non mi metto a raccontare la vicenda le vicende varie però nel mio piccolo le mie diffidine le ho ricevute e nel mio piccolo ovviamente chi inviava queste diffide adesso non facciamo nomi non facciamo riferimenti tanto la gente sa chi manda queste diffide ovviamente mirate a silenziare i critici parte dal presupposto che la gente si prenda paura nel mio caso c'avevo un team di avvocati ho risposto per le rime a una a due a tre diffide poi alla fine sono stufati perché tanto evidentemente che anche a Bayon il problema però è che appunto nel mio caso mi arrivano le diffidine io le ignoro oppure rispondo per le rime e siamo a posto il tuo tipo di giornalismo d'inchiesta va così a fondo e fa così male a questi personaggi che sono arrivati a minacce a tirare in mezzo i tuoi familiari a cose di questo tipo io vorrei sapere umanamente com'è questa situazione perché tu sembri da fuori da una persona che ti vede da come dire da tuo follower eccetera sembri fatto di granito come si vive questa situazione e come ci si difende anche come ci si mette insomma le mani avanti per eventualmente prepararsi a persone che non stanno neanche bene palesemente sì io mi sono arrivati lo racconto varie volte a farmi siti di famatori lo stesso sabato ne ho fatto uno prima di lui un altro dove mi si accusava di essere un pedofilo tu sai che tra le tante accuse che ci possono essere quella di pedofili tra l'altro con me è andati male perché io sono notoriamente un amante delle MILF la mia compagna è più grande di me sono sempre stato quindi proprio io guarda vuoi accusare tanta roba proprio quella roba lì no però guarda è chiaro che io i miei amici i miei lettori affezionati hanno detto vabbè questa è una boiata però è una cosa talmente infame tu immagini uno che non mi conosce o mi conosce poco ma chissà però magari 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 questo umili non è pulito come dice no e quindi di granito nessuno è chiaro che c'è chi è più forte chi è più abituato perché io penso nella vita noi siamo animali che si adattano quindi tutti adatti una volta che ricevi una minaccia due minacce tre minacce dieci minacce venti minacce è sempre brutto è sempre pesante è sempre stressante ma è chiaro che c'è più abituato rispetto a uno che è la prima volta in vita sua che ne riceve una quindi la roba che a me fa più incazzare è quando metto in mezzo i miei figli tant'è che io non pubblico praticamente nulla dei miei figli l'altra volta pensa Sab ha preso una foto dei miei figli dalla mia compagnia dei miei figli dal mio stato di whatsapp cioè dal mio numero di telefono che avrà avuto è andato a essere preso e io neanche lì sto pubblicando più nulla cioè quindi vedi ho dei limiti io mi devo dare dei limiti non sono libero di fare quello mi piacerebbe pubblicare qualcosa di più non come fanno Ferragni i Ferragni però ogni tanto sai una foto così invece io mi freno perché so che possono usare queste cose contro di me per farci poi chissà cosa quindi è una questione di allenamento come dicevo di esercizio della razionalità e poi io ho un mio metodo diceva qualcuno che non è fito molto bene tanti nemici tanto onore io non credo a questa a questa parola anche perché chi la diceva poi appunto bene non è finito quindi non prenderei lezioni da chi è fito in un certo modo io dico che è la qualità dei nemici a rendere eventualmente a te proporzionalmente onore cioè dipende dalla tipologia non dalla quantità se i fuffaguru ce l'hanno con te anche bene esatto allora lì medaglia se tu però hai mille persone oneste che ti odiano e beh amico mio ti devi fare una domanda e dare una risposta anche se sei figo perché hai mille persone che ti odiano e questo lo dico anche amici fuffaguru se mi siete presi per il culo a tante persone oneste professionali beh non è perché vi odiamo perché l'invidia l'invidia la roba sì che poi tu dici invidia cioè io ma che ti invidi vai vabbè ti devo invidiare ma anzi io ringrazio me stesso e Dio che non devo fare quel tipo di vita io devo dirti la verità ho una fantasia una fantasia sai di proprio i sogni quelli oscuri che mi dice che vuole che quando tu ti dicono invidioso tu sei talmente di successo che gli posti una foto e gli dici queste sono le mie 50 Lamborghini adesso verifica che non sono invidioso dopo di che torniamo a parlare quella cosa che dici ah quindi tu c'hai una Lamborghini ne ho due va bene adesso possiamo continuare a parlare quattro un al giorno ce ne compro quante ne vuoi a meno che non sei tra i top 10 più ricchi del mondo ci sarà sempre qualcuno che magari ha un po' più soldi di te e qui tu lo invidi no tra l'altro ho letto un commento interessante mi permetto di citarlo poi dopo leggiamo anche un po' di chat certo eh lui è importante si sono molti commenti interessanti vedevo in chat diceva attenzione che non facciamo passare il messaggio che ci si abitua alle minacce bravissimo c'è anche chi si toglie la vita purtroppo non ti abitui io se fossi una persona fragile se fossi una persona che emotivamente viene distrutta da quello che si ragiona io non potrei fare questo lavoro e mi pare chiaro quindi questo lavoro non è per tutti ma in molti lavori cioè chi ovviamente sviene e si vede il sangue non può fare il chirurgo mi pare ovvio quindi non è vero che non ti abitui cioè chi si abitua il chirurgo è abituato non è che il chirurgo quando vede apre una pancia oddio gli organi interni cioè se facesse così non potrebbe fare il chirurgo e io quando dicevo una minaccia anche dico va bene la minaccia sti cazzi che bello abbiamoci un bicchiere di vino no è pesante come dicevo è sempre pesante è sempre stressante può influire sul mio umore in quel momento può influire io somatizzo molto con la parte intestinale e non a caso ho avuto pochi problemi negli ultimi mesi e quindi ci sono delle conseguenze l'abitudine significa non che non ti fanno nulla e non che tutti si possono abituare ma che se tu scegli un certo lavoro per vocazione devi farci conti questo significa che sia giusto ok questo significa che tu debba accettarlo perché tanto ti sei abituato alle minacce tant'è che lo vedete penso che tu l'hai visto io reagisco abbastanza male sì cioè ne parlavo l'altro giorno e dicevo ma tu che hai visto com'è Germano Mite vai a stuzzicare cioè fai a meno cioè io voglio dire vai a stuzzicare l'orso poi questo questo diventa ce l'ha l'hai già visto l'hai già visto che ha franato altri lascia stare no cioè nel senso evita cioè se io fossi uno di questi personaggi una delle regole base che purtroppo è una regola terribile perché vuol dire che proprio il mondo è una merda però è una realtà la gente si dimentica cioè se io fossi stato un Matteo Saba o un qualunque o una Vanna Marche o qui per lei me ne stavi zitto stavi zitto e aspetterei che la gente si dimentichi di me e succede purtroppo perché siamo appunto in un mondo di merda nel giro di qualche settimana vengo sputtanato su Fufflix che viene fuori che sono un fuffaguro zitto aspetto un mesetto e poi la gente non si ricorda più cioè se quella è la strategia invece di cominciare a dire no io te le cerchi tu perché vedi sei frustrato te le cerchi te le cerchi vai a farti ancora più male a me quando dicono mi querelo apro la cartella cartella ma poi nessuno ti querela perché questa gente non ci vuole andare a processo non vuole stare davanti a me hanno anche querela ah sì ti è successo sì sì questo tu non lo sai lo sapevi io ho avuto tre querele in un solo anno oh madonna due in sede penale e una in sede civile madonna vinte tutte e tre nel senso le prime due sono state archiviate pensa che i personaggi sostenevano che oltre agli diffamati li avessi anche cyberstalk chezzati che è una roba ridicola perché loro avvocato non loro perché tutti affidano avvocato che fa queste impalcature fantasiose tipo Narnia certo se raccontava la favola di Narnia era più credibile rispetto a dire Milite ha fatto cyberstalking perché era cyberstalking perché io pubblicavo molte notizie su questi personaggi quindi mi stalkeravano proprio la nozione base di cosa sia lo stalking mancava però intanto ho dovuto grazie al sindacato della campagna di giornalisti mi hanno assistito loro se no avrei speso buttato 4 mila euro di avvocati presi e buttati perché se tu vieni archiviato non è che l'altra parte in sede penalti di borsa fine in sede civile il mitico Mirko Scarcella mi voleva dare 30 mila voleva da me 30 mila euro per una mia presunta campagna d'odio un video di 10 minuti ovviamente ha perso anche lui per l'incompensa territoriale e dovrebbe darne lui 3 mila a me non succederà mai probabilmente in America non succederà mai quindi qualcuno querela qualcuno querela anche non facciamo il nome ma poi svelerò il nome io un mega guru un super guru uno di quei capi guru che ha fatto ultimamente mi è arrivata una sentenzina molto interessante che lo condanna a pagare 40 mila euro lui ne aveva 15 milioni citando il mitico Luttazzi non ce li ho non faccio mica l'idraulico come disse come disse Luttazzi Luttazzi hai citato quel grande pezzo di Luttazzi quando veniva marsacrato da Fininvest con delle robe assurde ecco quella psicologicamente è una botta enorme tu c'hai sta cosa milioni quella all'epoca erano 40 miliardi quindi l'equivalente di 20 milioni di euro gli avevano chiesto è una roba allucinante e la cosa ancora più vergognosa secondo me è che è un'azienda che si può permettere di chiedere a me 20 milioni di esercimento poi ne paghi 40-50 mila ne devi pagare 30 mila c'è da dire c'è da dire che non credo che esista un suengolo giudice sul suolo italiano che mai condannerebbe a un risarcimento di 12 milioni cioè per avere un risarcimento di 12 milioni vuol dire che tu hai fatto non so concorrenza saleale ad amazon e gli hai fatto delle cose ma deve essere una roba di dimensioni ma infatti qui veniamo al tema delle liti temerarie io ti faccio quella causa in sede civile già sapendo che tanto giudice non è impossibile se anche la vinci ti dà 10 mila euro non è che esatto dai 15 mila euro finisce così ok però io lo faccio perché tu psicologicamente e dal punto di seditoriale sei bloccato non è che di quella persona il giornale non ne ha più parlato per tre anni in attere che poi a voi dico aspetta vediamo il processo come va no e poi a voi sono spesso molto prudenziale io ti racconto questa avevo queste tre diffide che mi sono arrivate da questi di questi personaggi io avevo già il mio avvocato mi ha impedito di fare il contenuto più bello che youtube abbia mai visto io ce l'avevo pronto il video era come rispondere alle diffide di nome e cognome o quello che è e il video era muto di me che facevo gli origami con le diffide secondo me veniva fuori il contenuto più bello della storia e il mio avvocato mi ha implorato di non fare questo contenuto perché un giorno un giudice però era bellissimo io che facevo la barchetta capito cioè vabbè non è mai un film bellissimo però potevi anche non citarli e farlo così io invece faccio di peggio il mio avvocato pure ma i miei avvocati che poi dipende dall'ambito e io me ne frego e io le diffide le leggo le leggo in live bello cioè a me quando mi ha una diffida soprattutto quando è ridicola come feci con l'avvocato Maggesi che poi mi ha fatto un ridicolo quanto lui lo dico mi prendo la responsabilità di quello che io è la responsabilità di mia personale esposto all'ordine giornalisti sul quale ovviamente abbiamo fatto un ampio confronto di risate io e i miei colleghi del disciplina inventandosi le robe che ha detto su lui comunque io presi questa diffida perché era esilarante sia per come era scritta sia per come era scritta che la lessi la lessi e l'avvocato dice ma così lo sfidi ma che devo sfidare se tu vai a queste cagate io le devo raccontare che altrimenti tu pensi che questa diffida che è letteralmente per dire in francese carta da culo possa servire io devo dare un messaggio a quelli che vogliono rompermi le palle quelle diffide io ve le leggo in diretta le diffide sì 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 poi siete responsabili tra l'altro prima o poi qualcuno dovrà occuparsi di questi avvocati di queste avvocate che scrivono questa roba cioè bisognerebbe rifiutarsi di scrivere queste merdate perché poi dai in teoria se sei un avvocato bravissimo no ma l'altra pratica odiosa sai qual è vabbè facciamo così dei concini mi dite mi avete diffamato datemi 3.000 euro e la chiudiamo qua ma tu chi cazzo sei allora se pezzi di sei un giudice se sei diventato nel frattempo hai già stabilito che io ti dovevo determinare fammi causa e vediamo se un giudice decide che ti devo dare 3.000 euro questi avvocati che chiedono il risarcimento così ma chi cazzo ti caga cioè chi te l'ha detto questa è un'altra pratica molto odiosa tu hai usato una parola che mi piace molto cioè io devo dare un messaggio allora è chiaro che al di là della tua crociata personale che tu dici la tua vocazione di dar contro ai bulli e al di là appunto del tuo lavoro di giornalista investigativo è chiaro che perché se non fosse così non avresti aperto un gruppo come Fuflix eccetera c'è anche l'idea di dare un messaggio cioè di aiutare le persone in qualche modo a sviluppare un senso critico che prevenga più che curare questo problema allora io ti chiederei questo come si sviluppa questo senso critico e quali sono i campanelli d'allarme che le persone dovrebbero avere sempre perennemente nella testa e ripeto non parlo dall'alto in basso perché io le fregature le ho prese tutte io sono stato quel ventenne che voleva fare i soldi facili andava a fare i network marketing li ho fatti l'ho detto pubblicamente l'ho raccontato io li ho comprati i corsi pseudo scientifici della lettura veloce io l'ho preso in corso di Big Blue cioè voglio dire l'ho raccontato l'ho raccontato pubblicamente non ho nessuna paura a raccontarlo perché non mi vergogno dei miei errori ma fai benissimo cosa avrei dovuto sapere a vent'anni che non sapevo ecco e che so oggi allora punto una domanda bellissima e di difficile cioè dobbiamo fare la live solo su questa roba qua perché ci prendiamo due ore però cercherò di essere sintetico chiaro come dice è circonciso allora il primo punto secondo me il contesto familiare e culturale nel quale tu cresci io sono cresciuto in un contesto dove la mia figura di frimento era ovviamente il mio padre commercialista che quando poteva comprarsi una BMW si è comprato la Fiat Uno perché dici questa roba è uno del quale a quale non fregava una beniamata fava di quello che la gente pensava è uno totalmente quasi sciatto cioè che non ne fregava nulla dell'apparenza un uomo di grandissima sostanza ok e quindi ho avuto questo esempio che lui semmai era lui che prendeva per il culo quelli che hai l'orologio l'amai l'abito griffato per essere qualcuno cioè vedi questa gente sono tutti sfigati da quando ero piccolino mi hanno dato questi messaggi vedi quelli sono degli sfigati e quindi ho avuto mio padre che mi ha cresciuto così e io sto crescendo così i miei figli quindi il primo punto questo poi io penso anche una predisposizione un indole no è un po' sui discorsi sul suicidio si è scoperto che in molti casi il suicidio è non voglio usare termini impropri ma è geneticamente cioè sei geneticamente portato al suicidio anche le dipendenze hanno delle dipendenze brava l'adopatia dipendenza sono purtroppo delle predisposizioni che hai a livello di struttura cerebrale ok ovviamente questo non significa che tu nasci condannato a suicidarti o a essere dipendente però è come la predisposizione all'infarto non è detto che tu morirai di infarto però a maggior ragione se sai che sei predisposto dovresti evitare determinati comportamenti per mantenere la tua saluta in questo caso mentale quindi tema su una parte dove non ci puoi fare nulla perché c'è una predisposizione però puoi conoscerti puoi conoscerti bravissimo tu l'hai capito no? hai fatto i tuoi errori io l'hai capito adesso credo che non cascheresti no adesso basta la dimostrazione è di uno che è caduto si è rialzato e non ricade più in quel tipo di roba là però c'è anche chi ci ricade e non deve sentirsi una merda e dire ah allora io non ce l'ho mai no ci ricadi ma già se ne sei consapevole che non devi ricaderne sei già un passo avanti rispetto a chi non se ne rende conto e poi come sempre evitare il materialismo spinto quello vacuo cioè evitare l'idea di compensare le proprie mancanze le proprie paure le proprie fragilità le proprie frustrazioni comprando roba io quando ero ragazzino e avevo una crisi d'amore compravo un Walkman compravo roba per distrarmi ok? per avere il pagamento materiale da una delusione sentimentale però avevo 16 anni poi sono cresciuto e sta roba non l'ho fatta più c'è gente che lo fa ancora a 30-40 anni perché non ha visto non ha capito come tu non ha conosciuto questo quindi autoindagarsi sempre soprattutto non cercare ecco un'altra cosa che mio padre mi ha ricordo quando ci chiamavano per dire lei ha vinto una medaglietta d'oro c'era all'epoca tu sei quasi mio coetaneo io sono 86 89 siamo lì e mio padre mi ricordo questa cosa io avevo 8 anni e chiamarono a casa questa era una mezza fregatura cioè i contatti dicevano dicevano che tu avevi vinto una medaglia d'oro e una bicicletta e dovevi andarla a ritirare in un albergo senti tu in realtà mio padre già sconosceva questo schema perché un suo amico glielo aveva raccontato lui rispose al telefono e disse attacco il tutto contento papo papo una medaglia e una bicicletta e dice germano picchio mio così mi chiamavano noi ci andiamo a questo evento ma ci andiamo perché io devo farti capire certe cose cioè che le cose regalate non esistono a questo mondo te lo voglio insegnare andammo lì c'era questa signora scosciata me lo ricordo questa ragazza giovane molto carina molto avvenente scollata mi aveva un pezzo di ghiaccio mi fregava anche la dita che faceva la tipa ma che bel bambino come sia comunque qual era il succo di questo incontro venderci un computer a 5 milioni di lire che ne valeva uno e mezzo avverte mio padre non comprò una sega non ci fu verso di fargli comprare nulla siamo stati là due ore a parlare con sta signora sta ragazza uscimmo io me lo volevo comprare il computer è bellissimo il computer dove anche me il padre uscì mi spiegò gli avevo 7 anni quindi perciò ti dico è importante avere l'attitudine a non credere alle cose facili alla strada facile senza cadere nel pessimismo perché è l'altro l'altro equilibrio nel pessimismo cosmico per esempio il mio padre ha il difetto rispetto a me lui ha il limite che a volte è troppo rigido su delle mie deposizioni io invece ho imparato col tempo a essere un po' più aperto però banalmente ricordarsi e leggersi io lo sto leggendo a mio figlio adesso è una lettura bellissima molto dura in realtà il film disney l'ha edulcorato Pinocchio cioè ragazzi quello è il gatto e la volpe che ti dicono metti i soldi i zecchini e cresce la pianta e cresce la pianta con gli zecchini è uguale riproposte in formule varianti diverse ma è la stessa cosa nessuno ti regala nulla e chi ti regala qualcosa perché ha un doppio fine no no ah no no diciamo c'è il missionario che ti porta a mangiare non è che dice ah però poi compra te lo dai basta chi vuole regalarti benessere lo fa senza secondi fini chi vuole regalarti la ricchezza io penso ci siano persone che per scopo vogliono rendere ricchi gli altri se tu vuoi rendere tra l'altro se tu vuoi veramente aumentare la ricchezza di un posto ci costruisci delle scuole ci costruisci delle strutture ci fai cioè fai qualche cosa che abbia un peso sulla società cioè non il fatto che il fatto di renderti ricco con un business online non ha nessun senso poi poi vabbè tu sei appunto anche imprenditore questa idea che online sia l'eldorado del soldo facile allora sicuramente ci sono delle caratteristiche dei business online che le rendono diciamo così che rendono un po' più bassa la barriera d'ingresso rispetto a aprirsi un ristorante ok però non è che sia facile avviare un business online anzi molto spesso è estremamente difficile e il ruolo della fortuna io per esempio che voglio dire nella mia attività online ho avuto e sto avendo un discreto successo l'agenda è cresciuta molto ho avuto delle coincidenze e delle questioni di fortuna cioè chiunque se la tiri troppo con questa idea del self-made man sta dicendo delle cazzate delle cazzate gigantesche perché poi la fortuna ha un ruolo chiave e se non lo riconosci sei automaticamente un fuffaro per non dire altro per non dire altro perché hai ragione c'è sopravvaluta le proprie competenze si dà troppi meriti un po' come chi si dà troppe colpe poi no è l'estremo opposto una roba leggevole e sta giudiziare è importante sulla questione degli avvocati ti ricordi che dicevo però ragazzi che non confondiamo allora l'accordo sta giudiziale innanzitutto non è l'avvocato che lo propone a me si propone tra avvocati quindi quando tu mi mandi la letterina e dici Germano Milite pagami 3 mila sei già ridicolo esatto perché a meno che si 3 mila per quella famosa cosa ma ci può anche stare che tu sai che andrai in causa sai che andrai in causa quindi c'è una una denuncia che è pronta a essere presentata e a quel punto la risolviamo in maniera sta giudiziale ma tu non puoi chiedermi mille euro a muzzo perché secondo te da solo in autodeterminazione io ti ho fatto un danno di mi lo devi dimostrare e poi nel caso si fa una trattativa tra regali e si risolve quindi altra roba su quanto sia difficile il business online e quanta fortuna io per esempio sono diventato giornalista professionista a 24 anni nel 2010 tra i più giovani in Italia come media che è difficilissimo però è una cosa che sono orgoglioso sono contento è tutto bello però sicuramente c'è stato anche un elemento di fortuna perché ho incontrato l'editore giusto nel momento giusto perché io sono fio di nessuno non avevo parenti che fanno giornalismo non sono fio di politici non ho sponsor ecclesiastici perché è così che si fa la carriera di base nel mio campo e quindi quella botta di culo che io mi procurai perché andai all'evento però se a quell'evento magari avessi avuto la febbre ah certo avevo la febbre non andavo all'evento non avrei incontrato mai l'editore e oggi non sarei qui probabilmente avrei fatto un altro percorso capite a volte la vita è quanto veramente uno sliding doors di un attimo oppure tua madre si sente male la devi accompagnare all'ospedale cioè che che vuoi fare che ti vuoi dire e hai perso un'occasione che quel giorno ti avrebbe potuto svoltare la vita e la carriera quindi io quello è un altro positivismo tossico la classica retorica del se puoi puoi dipende tutto da te solo questione di volontà sicuramente la volontà del mio aspetto sono fondamentali non importanti ma pensare che sia solo quello il mindset milionario Germano tu ce l'hai il mindset milionario cioè quello è importantissimo e se non cambi il tuo mindset è impossibile perché puoi insegnartelo questa è la cosa che tu insegnarti non ce l'hai capito cioè tu sei impiegato nel catastro da vent'anni io ti insegno il mindset milionario che io penso sia una ammesso ci sia no una parte di questo approccio è innato ma certo in buona parte è innato voglio coltivare ma non te lo posso trasferire te lo sumosi io visto che io sono ricco allora allora adesso allora ti spiego anche spiego anche a te come diventare lì ma funziona funziona così te abbiamo molti più ricchi al mondo e se ricchi sono così pochi ma a parte che non so cioè se tu guardi quello che pubblicano su tiktok su facebook eccetera sono tutti ricchi cioè abbiamo una popolazione di gente che guadagna dai 10.000 euro in su al mese di milioni di persone cioè se tutti i tiktoker che dicono di guadagnare 10.000 euro al mese li guadagnano sti cazzi siamo il paese più ricco del mondo cioè Svizzera levati voglio dire abbiamo tolto il problema della disoccupazione peraltro secondo lavoro una seconda entrata ieri adesso mi stavano scrivendo delle mamme e future mamme pensa tu adesso ci sono anche le gure le gure le gure femmine le gure donne in realtà ci sono già da un po' è una che dice sono senti senti tu coach di appointment setter che vuol dire è uno che fa appuntamenti per cani cioè fai per i setter prendi i setter i fissi appuntamenti per la pedicola ma poi tu sei sei uno che prende gli appuntamenti è il segretario 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 sei banale ma che va benissimo non c'è niente di male per fare il segretario cioè va benissimo però si chiama segretario cioè sei un ufficio appointment setter e poi sei coach allora mi ha scritto mamma io vorrei fare lei promette di raddoppiare lo stipendio in tre mesi e lo va a dire lui al datore di lavoro a me lo dice lui scusami ma chiedi a lei ma perché non raddoppia da sola il suo stipendio invece di venirlo a insegnare a te cioè però vedi sono delle robe no e io facevo anche l'esempio della lampada del genio guarda questa lampada del genio se la strofinisce il genio ti fa diventare ricco te la cedo a 10.000 euro e la prima cosa che dovresti dire ma cazzo ma usala tu e non rompe i coglioni io ho avuto per mesi la tentazione di fare un libro su amazon che costasse 500 euro autopubblicato intitolato come si fanno i soldi e tutte pagine bianche tranne una con scritto così e venderlo e vedere e vedere quanto quanto e lo vendevi secondo me è che poi non dormo di notte però vedi a noi sembra logica sta roba però vedi quante persone se ci cadono tante persone non dobbiamo essere edgy no ma non solo ma mi sembra logica adesso perché ripeto quando avevo 21 anni non mi sembrava logica perché cazzo anzi io ci credevo tantissimo io ricordo uno dei momenti in cui il momento forse in cui ho capito che i network marketing erano gli schemi piramidali erano una merda è stato io ricordo questa presentazione a Padova non mi ricordo neanche che network marketing fosse penso che fosse uno tipo con delle carte in cashback una roba non lo so è comunque tu affilia il solito schema piramidale il business era far affiliare altra gente una roba così far affiliare altra gente e va bene e ricordo questo coach questo tizio che ti spiegava il business che ti faceva un esempio materiale per farti capire quanti soldi potevi fare e diceva guarda se tu segui questa piramide fatta così nel giro di due anni di lavoro ti puoi comprare una BMW e dicevi ah cazzo figo però bello due anni poi uscito dall'albergo sale su una Fiat Panda e io mi ricordo che ho pensato ma dov'è la sua BMW cioè di che di che stiamo parlando cioè lui dovrebbe insegnare a comprarmela lui era nell'azienda da cinque anni per cui dovrebbe averne due ecco e chi c'ha una Panda cos'è che non va in questo disco e lì mi è cresciato il sistema e lì ho detto ma questo è una puttanata e poi mi sono e da lì poi ho cominciato a capire che non aveva però ci avevo creduto io a quella presentazione non c'ero andato in modo ironico c'ero andato perché volevo ci credevi eh certo è vero ero ingenuo era un momento in cui era il momento in cui mi ero convinto di fragilità magari no sì di fragilità mia personale ed era il momento in cui mi ero convinto che si potesse appunto trovare la strada facile la strada facile poi se ci pensi è il filo conduttore di tutti questi fuffa business perché da quelli che ti dicono i soldi quelli che ti dicono di passare gli esami all'università quelli degli addominali in sette giorni quelli del rimorchio eccetera il concetto fondamentale è che c'è una cosa difficile e faticosa da ottenere e invece io te la faccio ottenere facilmente in fretta cioè questo è il filo conduttore di tutto senza competenze senza competenze cioè a caso allora ah aspettate aspettate c'è Marzia che dice che Franco che era lì con me dice era una multipla non era una te lo ricordi anche tu te la ricordi anche tu boss quella roba lì che esci era una multipla allora che esci e dici ma dove era la BMW non mi ricordo che business era non mi ricordo era quello del cashback non voglio dire i nomi o era quello del caffè cioè insomma era uno ah il caffè caffè io ricordo anche quello che c'è questo del caffè che non mi ricordo neanche come si chiama era un caffè con un fungo dentro che faceva bene e Franco che è il mio caro amico li facevamo insieme queste robe qua e io mi ricordo porto sto caffè a mia madre e lei lo beva ma fa schifo e lì e lì è morto tutto ma non mi piace io mi bevo il caffè del bar è più buono e allora vabbè che cazzo che cazzo ah era quello del cashback perfetto perfetto allora io ultimamente ultimamente ho conosciuto uno dei giapponesi aziende esotiche questa azienda giapponese che esiste da 50 anni sempre aziende che esistono da 50 anni da 30 anni sì quello gold era quello del caffè sì vedo che in chat c'è qualche uomo di cultura che aveva fatto anche lui iniziano o con la o diciamo con la o e poi gold vabbè finito malissimo però ne ho comprato pochissimo di quello ho comprato proprio poco cioè non ho speso soldi perché già era il periodo tanto no non mi hanno fregato tanto quello del cashback è di più no ma la questione della fragilità momentanea guarda è importantissima io faccio sempre l'esempio anche sai sentimentale che tu magari sei in un momento di down un momento di confusione sei in crisi col compagno la compagna sei in crisi al lavoro e vai dietro delle persone che dopo quando sei lucida dici ma io ti che ha cioè ma veramente ci ho provato con questa che il mio momento di lucidità io questa manco la vedevo cioè manco mi accorgevo che esiste ho capito ho capito in quel momento quindi io non giudico chi cade e non è vero che ci cadono soltanto gli ingennui tra l'altro c'è delle statistiche che dicono che paradossalmente sono le persone di media intelligenza di solito a finire in queste cose perché le persone con intelligenza molto alta spesso se la cavano a meno che non siano in un momento di fragilità e le persone con una bassa intelligenza tendenzialmente non gliene frega un cazzo cioè non sono le persone di media intelligenza che tra l'altro è lo stesso tipo di popolazione che crede nei complotti il complottista medio non è uno stupido è una persona abbastanza intelligente da farsi le domande ma da darsi le risposte sbagliate e questo è il problema quindi la questione del chi ci casca è uno stupido e lì tra l'altro adesso l'ultimo tema che voglio trattare è diverso ma voglio collegarmi a questa cosa porta intanto è falsa e poi porta a quell'errato vannamarchi pensiero riassunto nella frase di vannamarchi gli idioti vanno inculati allora ecco questa è un'altra cosa che ti voglio chiedere come rispondiamo alle persone che dicono ma sei scemo tu che ci caschi cioè la fragilità umana va rispettata cioè la gente ha il diritto di essere fragile senza che tu gli passi sopra con un tir cioè non assolutamente e anche se fossi un idiota tu hai anche il diritto di essere un idiota senza che io ti devo menare esatto poi approfittare della tua idiozia magari sono nato così forse per questo dico magari sono nato con un deficit cognitivo o con delle fragilità emotive profonde o a un brutto momento ho subito un lutto è classico vittime guarda è molto vicino ma quando una donna viene violentata dice ma dov'era come era vestita aveva la gonna come era vestita ma la provoca ragazzi vittima vittima cioè non è che vuoi dire ma se però è uguale anche qui è chiaro che io non ho pietà di chi di chi ha provato a partecipare a uno scam sapendolo ed è rimasto fregato ma è un'altra roba perché lì è il furbo non è quello che viene fregato è il wannabe è il wannabe scammer che è troppo stupido o sfortunato per fare lo scammer e allora lì è diverso come tutti gli altri casi l'altra cosa tossica oltre che lei diceva i coglioni vanno inculati è eh ma tanto se i soldi non gli riprendi tu a un critino gli riprende qualcun altro eh ho capito io rispondo va bene va bene che gli riprenda qualcun altro che è una merda io non voglio essere una merda ho una coscienza e non è che ah potrei rubare caramelle ai bambini cioè però non lo faccio eh li potrebbe rubare qualcun altro è una merda chi lo fa cioè potrebbe picchiarlo qualcun altro quindi adesso gli do un cartone in faccia che ragionamento è che ragionamento è allora visto che gli altri se lo prenderebbero mi riprendo io i soldi vedi ci sono tutte quelle fallace logiche che cercano di giustificare l'indjustificabile di trovare una veste no come dire di razionalità possibilità sì di plausibilità a comportamenti antisociali certo dice Al dovrebbe essere compito delle istituzioni formare anticorpi alle persone sono d'accordo però sono due discorsi differenti cioè secondo te Germain tu che ne hai conosciuti tanti di questi e ne hai analizzati tanti di questi personaggi queste persone sono consapevoli di essere delle brutte persone o pensano invece di essere delle brave persone cioè io perché raramente le persone credono di essere il cattivo della storia cioè queste persone io sospetto che pensino di essere dalla parte del giusto cioè non si vedono male allo specchio non dicono sono proprio un criminale no si considerano positivamente allora dobbiamo dobbiamo è uno studio di criminologia molto interessante è questo qui in realtà divide i criminali in varie non sono dovremmo fare delle distinzioni c'è il sadico sociopatico che gode nel fregare gli altri sì ok fa del male io ho fregato 500 euro che è un po' il Vannamarchi no cioè Vannamarchi dice i coglioni vanno inculati cazzo quindi lei lo sa è consapevole e lo giustifica ma lo giustifica in maniera super cinica poi c'è quello che si vuole raccontare la balla e quindi trova le scuse no ma sono stato costretto ma era un momento così ma mi hanno manipolato ma non lo sapevo neanche io ma alla fine io non sono quello che dite voi cioè se tu pensi a Pablo Escobar come lui si dipingeva Pablo Escobar che era non solo un narcotrafficante ma anche un plurimandatario di omicidi e lui stesso un pre-omicida nella sua testa e io sono venuto e lui una parte di sé lo pensasse lui era un benefattore del popolo perché regalava le case al popolo al capone se leggevi come descriveva se stesso lui era vittima del sistema era un ragazzo cresciuto in un brutto quartiere che si era dovuto fare spazio con cattivera nel mondo e quindi lui aveva agito così vedevo un video di Saviano che diceva che una delle frasi tipiche della Camorra eccetera è che l'onestà è qualcosa per ricchi cioè che sei costretto siamo poveri e quindi siamo costretti a fare i criminali perché lo Stato ci ha abbandonato e quindi non abbiamo scelta quella è un'altra grande branca soprattutto dalle mie parti e io in parte capisco che se tu nasci con il padre pregiudicato il fratello in carcere per spaccio e la madre che non lavora oggettivamente è molto più facile che tu finischi in certi giri la famosa fortuna di cui prima vediamo dove nasci nasci in Zimbabwe nel 1980 poi capiamo se diventi presidente degli Stati Uniti d'America o fondi Amazon quindi è chiaro che l'ambiente culturale incide però al contempo direi c'è tanta gente che nasce in questi ambienti e resta onesta non finisce a rubare a spacciare a fare del male quindi c'è sempre comunque un elemento di scelta personale nelle cose che tu fai e poi continui a fare e c'è anche chi si rende conto di aver sbagliato e cambia percorso in questo se mi consenti un piccolissimo inciso importante spesso le carceri a me piacerebbe tanto andare nelle carceri minorili a insegnare ai ragazzi delle alternative ecco parlare di business come diventare dei libri professionisti di un certo tipo perché molti ragazzi delle periferie delle mie parti da provincia di Caserta provincia di Napoli sono realmente abbandonati a se stessi e quello che vedono è faccio i soldi facendo il palo alla malavita o fare un lavoro onesto e sono fesso perché poi mi faccio sfruttare a 1316 quindi dare loro delle alternative spiegare che studiare quanto la sottoscolarizzazione sia uno svantaggio enorme per loro è una strada verso la povertà che tanto giustamente temono secondo me è importante invece nelle carceri loro si radicalizzano cioè nelle carceri spesso imparano da ragazzi più grandi quando esci a far peggio quando esci sei sì esatto sei più criminale di prima molte volte piuttosto che rieducato e quindi la funzione del carcere che dovrebbe essere rieducativa mi rendo conto che non esiste il carcere perché non lo puoi fare con tutti alcuni che sono proprio secondo me irrecuperabili però ci devi provare ci devi provare lo scopo è provarci bravo e penso che la maggior parte personale non vogliono vivere rubando e facendo del male io sono convinto di questo sono convinto che poi ti abitui a vivere in quel tipo di fare quel tipo di esistenza ma la maggioranza non è che ho ambizione un bambino di 10 anni dice io vorrei fare il boss della maravita o voglio scammare su internet voglio scammare la gente su internet e campare odiato da tutti e in seguito dei creditori io non penso che la vita di Matteo Saba sia la vita che desiderano i giovani almeno quelli che sono minimamente connessi con la realtà non credo no certo senti voglio parlarti di un ultimo tema che a me sta molto a cuore perché è connesso con quello per cui il mio canale è nato perché io parlo fondamentalmente faccio divulgazione di varie cose però il mio è un canale soprattutto rivolto al mondo dello studio ok e tutto questo mondo dei fuffa guru è caratterizzato da un odio diffuso direi orizzontale per l'istruzione per la scuola per l'università per la formazione diciamo istituzionale come la vogliamo definire tu sei una persona l'hai raccontato molte volte che non ha concluso il suo percorso di studi però che l'ha iniziato e che lo valorizza e vorrei sapere intanto che cosa hai notato in questo tuo percorso perché queste persone ce l'hanno così tanto con il mondo dello studio e cosa tu ritieni e ritieni soprattutto che oggi sia ancora importante studiare andare all'università formarsi tutte queste cose qui sì questa è una bella domanda per chiudere tema che mi sta molto a cuore come tu hai giustamente ricordato e lo dico sempre ci tengo anche a rivendicare gli esami che ho dato all'università tutti gli esami che ho dato all'università uno per uno perché sono stati importanti e formativi a un certo punto per me devo dire l'università è diventata una zavorra io lavoravo già facevo il lavoro che sognavo volevo fare volevo prendere l'abilitazione professionale già lo sapevo e poi appunto l'ho preso e ci sono riuscito e quindi per me l'università ecco qui ti faccio una critica al mondo guru anti istruzione e anche una critica all'istruzione una notissima una nota all'università privata molto prestigiosa e molto costosa questa è una storia che mi è stata riferita a fonte diretta ha totalmente abbandonato il ragazzo già molto in tensione che deve fare una tesi il professore via mail non rispondeva sai dove ha risposto? via Instagram e lo ha totalmente abbandonato tuttora c'è la tesi che non si discute più attenzione alla triennale non discutono la tesi di questi ragazzi errore gravissimo gravissimo perché discutere la tesi non solo ti abitua al confronto dialettico e quello della base ma poi se tu non la discuti te la puoi far fare da qualcuno quindi poi c'è una scorciatoia te la fa paghi già prima le tesi te le potevi far fare da qualcun altro ma almeno te le dovevi leggere perché le dovevi discutere quindi quindi anche le università attenzione molte università secondo me stanno abbassando gli standard e prendendo degli andazzi non questa non è la prima la prima cosa che mi viene riferita quindi va detto tutto io per me ho diventato una zavorra e lavorando devo dire ho avuto zero comprensione dai docenti che anzi mi punivano per il fatto che io non frequentassi questa è una discriminazione totale se non sei ricco di famiglia e quindi non puoi devi lavorare sei uno studente di serie B non è questa cosa che mi fa impazzire io psicologia sociale ho amato tantissimo la professoressa mi ha detto io ho preso tante botte che poi mi hanno scoraggiato e dire vabbè andate da quel paese però consiglio ai ragazzi di scriversi di studiare di farlo sempre lo sai no non parlo mai a prescindere per l'abbandono scolastico anzi il contrario mi disse guardi lei ottimo esame perfetto però le posso dare massimo 28 perché lei non ha frequentato e io dissi già 20 anni ma io lavoro 12 ore al giorno in redazione invece di apprezzare che io nonostante non abbia frequentato ho tolto il tempo di studiare e venire qua e fare un esame brillante come tu hai detto invece dammi 30 e lode mi dai 28 perché io devo fare la scimmietta a me e state venire qui a seguire se no tu ti offendi perché ti penalizzo perché sei povero perché di fatto se tu sotto sotto scavi io ti sto penalizzando perché tu devi lavorare perché se tu invece potessi essere mantenuto da mamma e papà avresti due voti in più per cui la povertà ti fa perdere voti c'è del classismo del classismo anche lì madonna è un classismo terribile poi è un classismo ottuso perché è una roba manieristica che devo venire a frequentare se no vuol dire che poi cioè se io sono più brillante degli altri e quindi queste sono robe brutte che l'università dovrebbe cambiare aprirsi ai lavoratori questo non significa regalargli gli esami ma neanche dagli dei punti in meno neanche dagli dei punti in meno almeno questo voglio dire e poi essere più attrattiva per i giovani probabilmente facendo degli incontri con anche persone come te no? cioè io spesso sono da un'università ottengo un corso a Federico II far vivere ragazzi persone che sono comunque ancora giovani perché non penso che ci possiamo ritenere gli anziani non siamo più ragazzini ma insomma vecchi non siamo sicuro che vedono non troppo lontani da loro e che hanno una connessione col mondo di oggi che possono spiegare loro quelle che sono le strade dopo l'università perché io vedo tanta gente che in effetti si iscrive perché si deve iscrivere io studiavo mi chiedevano io ho studiato scienze politiche economia aziendale primo anno ho fatto tutti gli esami tranne uno che era diritto commerciale e poi no scusate metodologia diritto commerciale all'inizio del secondo quando poi ho deciso di passare a scienze politiche e sono stati dei bei percorsi cioè se io devo dire mi hanno arricchito io il mio datore di lavoro l'ho conosciuto grazie alla mia professoressa di sociologia che sapendo la mia passione per giornalismo mi segnalo un evento al quale andare quindi vedete a mia università ha dato tanto io poi non l'ho conclusa perché in quel momento valutai e non sono pentito che mi avrebbe rallentato il percorso e l'ho vista chiusa io ho avuto anche le porte sbattute in faccia ripetutamente dall'università sono solo mortificato dall'università che non capiva cioè che mi frenava e mi vedeva come un corpo estraneo perché ero quello che andava solo a dare gli esami e quindi facevo schifo quindi invece di apprezzare che a 21 anni già lavoravo tra l'altro io dovevo lavorare perché volevo prendermi il tesserino da professionista la prima possibile e volevo iniziare presto il treno mi passò in quel momento non potevo dirmi aspetta allora prima mi laureo poi tra due anni se sei ancora qui ti capita l'occasione la prendi questo essere più connessa e ci posso dare un consiglio costruttivo agli studenti lavoratori a chi lavora perché lavorare inizia a lavorare da giovani anche part time è importantissimo io non concordo con chi studia fino a 28 anni fuori corso e non fa mezza esperienza e usa l'università un po' come un alibi per rimandare l'ingresso al mondo del lavoro a meno che nella vita non bisogna fare lo studioso quindi il ricercatore il dottorato a quel punto è un'altra carriera è una carriera diversa è bravissimo ma tutti gli altri dico laureatevi presto bene e se non ci riuscite trovate un lavoro che vi appaghi questo è il consiglio che do e i guru sono contro l'istruzione perché ragazzi come scrivo nella tua chat l'istruzione rende il pensiero critico rende critici rende più attenti rende più accorti rende meno vittime quindi loro sono contrari perché è chiaro che un ragazzino di 16 anni che si è fermato cioè adesso questi propongono prima dicevano non iscriverti all'università e va bene che già è una cazzata perché a prescindere adesso dicono ma non finire neanche le scuole medie superiori cioè fermati a 16 anni perché io fai business già a 16 anni cioè quel ragazzino abbiamo il paese con l'abbandono scolastico più alto d'Europa porca puttana ci sono delle regioni italiane dove c'è un abbandono scolastico che arriva al 40% è allucinante cioè è una vergogna questa è un'emergenza sociale altro che altro che l'immigrazione l'emergenza sociale è questa Dio Bono già lo so ti diranno vabbè ma tu sei il classico trombone vecchio che parla adesso la scuola non è adeguata ai tempi la scuola non insegna ai ragazzi il rapporto col denaro ma il rapporto col denaro non devi insegnare elementari cioè lo insegna ai tuoi genitori alle medie e alle superiori sono d'accordo che puoi iniziare a discutere di alcune temanze sì far vedere certe cose fare certe cose sicuramente ma non è che ti metti a studiare ai mercati finanziari alle scuole medie o come fare impresa alle scuole medie cioè sei ancora che ti stai formando la tua base di cultura solida che ha bisogno di un tot anni per essere consolidata cioè tu sei ancora a fare analisi logica e grammaticale in prima media quindi impara a esprimerti correttamente a esprimere le tue emozioni i tuoi sentimenti correttamente poi capiamo come fare azienda come fare impresa anche perché mi risulta che ci siano una marea di imprenditori che sono tranquillamente puri laureati o non laureati che hanno avuto successo quindi ma certo non è questo secondo me che manca lo studio che dice anche Bardolla che come stai nei soldi intanto non mi ha detto nulla di quello che ripresce Bardolla nelle scuole soprattutto non lo so e non voglio saperlo ti dico la sincera verità guardati la puntata a Gurulandia io non ce la faccio guardarla io non riesco io mi trovo a litigare con lo schermo cioè c'è il cellulare che va e io dico ma no ma non è possibile cioè non riesco a stare calmo quelle cose lì mi fanno veramente imbestialire mi fanno proprio male perché credo che allontanino tra l'altro proprio avvelenano la crescita delle persone cioè quando tu a 16 anni ti metti in testa che devi trovare la strada per fare soldi per essere più furbo degli altri stiamo creando le basi per il disastro sociale cioè è una cosa vergognosa che poi non vuol dire io sono il primo che critica l'istruzione figuriamoci cioè non è che anzi è pieno di problemi però poi anche le statistiche ci dicono che fare l'università vuol dire trovare più facilmente lavoro guadagnare mediamente di più avere più prospettive di carriera e mantenere tra l'altro importante il quarto punto non ne parla nessuno i dati ci dicono che i laureati mantengono di più il loro posto di lavoro nelle crisi nel covid un sacco di gente ha perso il lavoro i laureati di meno cioè questa non è una cosa da poco poi sono statistiche è chiaro è anche difficile ricollogarsi poi scusami stavi dicendo è chiaro che ci sono delle eccezioni è chiaro che c'è il laureato che non trova lavoro e c'è il disoccupato miliardario certo il diplomato miliardario esatto miliardario certo che ci sono che discorsi però uno deve guardare non deve fare il survivorship bias deve guardare le medie le statistiche sì e poi dipende anche tu con che consapevolezza fai e nel caso lasci l'università perché io non è che ho lasciato l'università perché mi scocciavo di terminare non avevo niente da fare volevo stare davanti ai videogiochi volevo cazzeggiare no io avevo un lavoro un obiettivo che stava andando bene un grande cosciente sì stava andando benissimo io avevo preso un lavoro per me cioè all'epoca credetemi perché uno non lo sa nel settore trovare chi ti fa fare un praticantato da figlio di nessuno è stato un miracolo quindi io dovevo prenderlo quel miracolo quel treno piuttosto che stare iscritto in questi altri 4 anni per prendermi una trennare io mi dissi ma scusami Germano ma tu con 5 esami in più sei un uomo diverso no cosa vuoi fare ti servirà no se te la servirà domani te la potrei prendere sì e quindi ho fatto queste scelte e ho mollato ma non consiglio a tutti di fare il mio percorso assolutamente cioè fatelo magari vi rendete conto e tra l'altro penso che tu sia d'accordo su questo non essersi mai iscritti neanche all'università non aver mai messo piede all'università ed essersi iscritti aver fatto esami è completamente diverso qui 12 15 20 anche se non hai finito è diverso ma tu pensa solo a tutti ogni volta che si parla di questo tema tutti dicono Steve Jobs Bill Gates Zuckerberg erano tutti nelle top università del mondo ragazzi cioè è gente che ha mollato l'università perché gli è esplosa un'azienda miliardaria tra le mani e non avevano più intenzione di dargli esami ma Bill Gates era è famoso se voi leggete le bibliografie eccetera era quello che aveva i voti più alti della scuola Bill Gates cioè non è che era ma anche Einstein è stato bocciato ma non è vero però che era stato bocciato era il migliore dell'istituto Einstein perché è un genio cosa stiamo parlando c'entra Einstein vuoi dirmi che sei che tu sei il nuovo Einstein hai capito hai capito ma anche Einstein andava male a scuola che non è vero e comunque che cazzo c'entra cioè questo vuol dire ma poi per esempio non è il caso di Jobs ma Bill Gates era figlio di di Rick madonna come no quindi anche quello va detto che come tu dicevi è chiaro che se nasce una famiglia ricca benestante che ti fa fare una delle più prestigiosi università al mondo dove fai un networking incredibile è uno stimolo incredibile poi che cazzo ti frega ecco lui ha detto ma a me mi manca ma mi frega di laurearmi a 21 anni c'era già Microsoft che andava che valeva miliardi cosa fai vai a fare gli esami e c'hai l'azienda da gestire e si si quella altra dimensione a quel punto ti devi laureare così perché ti piace l'idea di laurearti ma probabilmente non ce l'hai non devi dimostrare nulla a nessuno e questo è il punto ragazzi anche questo il provincialismo è italiano nel pezzo di carta perché per quanto il pezzo di carta diventa l'identità personale da te che scrivono dot nell'email anche se hanno una triennale di scienze politiche lo dico avendo fatto scienze politiche e lo so che ma per legge vedi per legge tu ti chiami dottore sì ma è ridicolo sì sì è ridicolo è comunque ridicolo che scrivi dottor perché non sei un medico e c'è una triennale fondamentalmente c'è neanche un dottorato capito dice beh io c'ho un dottorato dottor De Conci va bene ok però è sempre il contesto perché se mi stai mandando un'email commerciale perché ti firmi dottore ti firmi dottore non lo so trovo una roba proprio da provincia del sud una poveracciata proprio sì 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 i miei genitori tutti e due laureati ma è scritto dottori come si fa da queste parti sul citofono grande cioè la nome e cognome ma me l'hanno sempre detto è una caffonata mettere quindi non è che lo dici dot av prof of ing ma lì sai vedi sei ingegnere stai firmando dei lavori sì ma certo mi sa che ti firmi ingegnere no ma se tu mi mandi una mail a quelli su facebook dottore io ho detto di contatti dottor Pasquale Russo ma ma perché e poi vai a vedere laureato in scienze politiche ma perché cioè quindi se tu lo fai perché ti piace lo studio ti piace quello che stai studiando sei appassionato a quello che stai studiando e credi che quel percorso ti possa portare valore ti assicuro che lo farei anche bene io fin quando c'ho creato l'università media del 28 anche quando lavoravo ok quando tu smetti di credere in quel percorso lo fai perché così mamma è contenta no quello non ha senso l'università la fai per te non la fai per gli altri la laurea sempre serve esatto probabilmente hai sbagliato percorso ok però è chiaro che tra essere confusi con una laurea ed essere confusi senza io direi meglio la prima ipotesi perché almeno c'è qualcosa che ti puoi sempre giocare e poi comunque hai imparato delle cose hai imparato delle cose nel percorso è chiaro che se il tuo percorso è fatto a caso studi così poi ti dimentichi anche lì bisogna studiare bene se no cosa stai facendo allora non c'è andare non c'è andare ma poi anche l'altra roba la competenza tu studi economia aziendale laureato nel 1995 poi non hai mai più aperto un libro economia aziendale non hai mai gestito un'azienda magari sì sei effettivamente meno competente di uno col diploma che analizza e approva bilanci da 15 anni e siamo d'accordo però la forma mentis che ti ha dato studiare quelle materie ti permette se tu decidi di aggiornarti di aggiornarti più velocemente più rapidamente rispetto a uno che non ha letto tre libri in vita sua questo sto questo anche sto dicendo quindi anche qui il pezzo di carta fino a se stesso lasciato lì a muffì in un cassetto e tu non hai mai non ti sei mai aggiornato io ricordo le cose che ho studiato l'università meglio quelle che ho applicato ti sto dicendo niente di nuovo ti sto dicendo una cosa ovvio il cervello dimentica quello che non applica però resta a mio padre mi faceva l'esempio dei pesi quando dicevo perché devo fare l'ostrae latino che palle c'è latino io dicevo filosofia a me piaceva poi la filosofia è esattamente come il bicipite tu lo alleni quello si ingrossa non si ingrossa però impara si allena ad utilizzare certi schemi di ragionamento che al di là ripeto delle doti innate delle connessioni sinaptiche che ha in più o in meno per una questione innata Einstein io posso studiare quanto ti pare ma non sarò mai non avrò mai il cervello che aveva lui è nato così fine non sarò mai Einstein è uno che si allena a pallone non potrà mai essere Maradona si può allenare ma non è Maradona quindi al di là di questi geni fuori dal mondo mediamente però allenare il cervello ti può fare solo bene ah certo non ti può fare male sono poche le materie inutili in questa moda le materie inutili io ho fatto latino non so tu se eri già in quell'ordinamento io ho fatto latino alle medie no 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 io ho fatto latino e greco però poi ho fatto il classico quindi latino e greco figura e devo dirti la verità li ho fatti malissimo e non mi ricordo assolutamente niente ed è uno spreco ed è uno spreco perché lì si che butti via il tempo cioè io ho fatto per cinque anni latino e greco e se tu mi metti davanti adesso una versione non so un cazzo allora sì che ho sprecato ma ho sprecato perché ho studiato male e se tu esatto ho avuto un brutto insegnante un pezzo o io non sono riuscito ad applicarmi a studiare male allora lì se studi male certo non serve a nulla però vabbè insomma questo è comunque è bello sentire questa cosa bello sentire questa cosa perché comunque ci tengo al fatto che bisogna smetterla di spalare merda sopra l'istruzione cioè bisogna studiare anche perché poi c'è un altro fattore che tanti si dimenticano lo studio strutturato che tu fai all'università non lo fai da nessun'altra parte perché perché se non hai la struttura per l'appunto nessuno si studia quattro testi da cinquecento pagine in due mesi da solo per indole non funziona così perché sì è vero c'hai una struttura è la struttura stessa che ti porta a fare un tipo di studio che da autodidatti è quasi impossibile non impossibile perché ci sono anche i famosi eccezioni ci sono quelli che lo fanno sì benissimo però 99 persone su 100 non si mettono a studiare il librone di diritto penale se non sono all'università non lo fai bravo mi hai dato mi hai dato un lato di una roba io ho studiato i libroni di diritto di diritto internazionale di diritto penale di un sacco di leggi questa cosa io ho fatto uno step nella capacità di lettura di concentrazione di apprendimento enorme all'università io non sarei la persona che sono se avessi detto ai miei genitori mamma io non ci vado però ho finito il liceo faccio il dropshipping faccio l'e-commerce studio online da Mattia Lutta cioè sarei sicuramente molto meno strutturato centralmente e dopo l'aver studiato sui tomi era l'esame di diritto penale erano 700 pagine economia aziendale il bilancio in partita doppia tutte queste robe qua che erano una grandissima rottura di coglioni però poi dopo sai cosa mi è successo che quando io faccio le inchieste ho una capacità di concentrazione sui testi di lettura e di estrapolazione del significato del testo che se se io mi fossi fermato non avessi dato 12-13 esami non avrei allo stesso livello perché tu lo fai nel momento della tua vita in cui il cervello ancora si sta formando in maniera in un certo modo ok non è come farlo a 50 anni a 40 anni farlo a 18 a 19 e quindi io fino ai 21 ho studiato come un pazzo tantissimo all'università perché ci devono fargli bene gli esami e questo mi è servito anche nel mio lavoro di cose che non erano collegate direttamente con quello che avevo studiato perché quell'allenamento ai tomi anche psicologico sai quando mi arriva ecco questa è un'udienza sono 220 pagine se io nella mia vita non avessi mai letto un libro superiore tra i 50 pagine io invece mi leggo tutti anche velocemente a parti perché tu impari cosa impari a fare avendo fatto anche tu l'università tu penso l'hai completata non a differenza mia ci ho messo nove anni però io sono un famoso studente fuori corso di brutto tu che fai sottolinei estrapoli fai le mappe concezionali c'è tutta roba che tu all'università fai a un livello diverso rispetto alle scuole superiori e rispetto detto se ti devo dire dove io sono di più in vita mia è alle medie io alle medie cioè io non uscivo di casa io studiavo a casa era una roba allucinante il studio delle scuole me io poi andavo facevo anche calcio mi arrivavo 4-8 settimane ma era una roba allucinante io finito se ero 10 ero fremato e li ho odiati quei compiti però adesso li benedico anche se era esagerato devo dire perché poi non va bene stare altre 4 ore sui libri no sono d'accordo 12 anni di uscire non 4-2 sì esatto però quello sforzo cerebrale mi ha aiutato a studiare meglio al liceo a studiare meglio all'università guardate allora ci tengo a dire questo le scuole elementari e le scuole medie sono per certi versi più importanti delle superiori sono d'accordo sono d'accordo le fondamenta se fai male quelle avrai uno svantaggio che difficilmente recupererai dopo tant'è che ci sono molti laureati che non sanno scrivere mamma ti dico che mail che mi arrivano mamma ragazzi non so fare l'avvocato perché hanno fatto delle elementari di merda o diplomati che sanno scrivere penso a mia suocera che sanno scrivere molto mia nonna aveva la quinta elementare ma mia nonna scriveva meglio di molti diplomati di oggi sicuramente dei guru di Dubai sulle landing cioè mia nonna aveva potuto scrivere una landing page in italiano perfetto perché quando andava a scuola lui pare lei pare un luogo comune ma la scuola sui fondamentali sull'ABC sul leggere e far di conto come si dice si si batteva batteva cioè tu in quinta elementare sapevi leggere e far di conto con la quinta elementare ok non eri certo intellettuale ma sapevi leggere e far di conto oggi finisci le medie e le superiori e non sai scrivere oggi le statistiche ci dicono che il 30% degli studenti che completano e arrivano al diploma non hanno una preparazione significativamente superiore a quando hanno finito le scuole medie quindi uno studente su tre finisce le scuole superiori allo stesso livello di quando ha finito le scuole medie pressa poco questa è una roba inaccettabile abbiacciante inaccettabile il nostro paese è indietissimo vuol dire c'è stata una regressione diciamo come vogliamo vuol dire che le varie riforme una dopo l'altra hanno tagliato tutti alle scuole ma hanno peggiorato il livello medio di conoscenza non è un che sai un luogo comune lo dicono le statistiche o dicono i studi e non è neanche una cosa perché dicono la cultura no 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 l'economia va peggio perché la gente è meno preparata cioè preparata quindi meno produttiva la prima cosa che tu vuoi fare per alzare il pil di una nazione è puntare sull'istruzione è chiaro che quella roba funziona a vent'anni di distanza cioè tu investi sulla scuola oggi fra vent'anni ti cresce il pil sì certo però è l'unico modo per farlo seriamente cioè voglio dire ma poi ti vuoi fare una seconda entrata sai come si fa io lo scrivo l'altra volta nel mio post forse tu l'hai anche letto e commentato la vera seconda entrata tu te la fai quando accresci moltissimo il tuo livello di competenze conoscenze professionali vere richieste se cagate del dropshipping e puoi fare qualunque scimmia quindi sei un avvocato di top di livello top sei un consulente aziendale di livello top a quel punto una tua ora di lavoro tu riesci a essere iper produttivo vale di più e quindi prendi più consulente se hai le famose altre entrate e riesci a magari a fare due aziende invece di una perché sei super preparato ma lo fai se sei studiato e sei bravo a studiare poi scrivono in chat a te che ci sono un sacco di esami inutili non so tu come la pensi su questo aspetto sì e no ci sono secondo me ci sono esami inutili come ti sei approcciato tu agli esami inutili io questo sono curioso di sapere ci hai messo nove anni ok come ti sei approcciato agli esami inutili male malissimo io sono stato uno studente pessimo io credo e lo dico in maniera non ironica credo che uno dei motivi per cui oggi sono così efficace nel trattare con gli studenti in difficoltà è che io le cazzate da studente le ho fatte tutte tutte quindi io posso dire fieramente io mi sono laureato alla triennale in lettere e poi alla magistrale in linguistica e posso dire fieramente che io quattro esami su cinque non mi ricordo un cazzo a distanza di dieci anni perché ho studiato di merda e questo rimpiango non rimpiango di aver fatto l'università rimpiango di averla fatta di merda di aver studiato male avrei dovuto farla meglio avrei dovuto la verità è che avrei dovuto cambiare facoltà io mi sono accorto dopo il primo anno che non volevo studiare lettere e però ho continuato lo stesso perché volevo perché l'orgoglio ferito perché cambiare mi sembrava un fallimento e quindi ho continuato a studiare una cosa che non mi interessava e l'ho studiata male solo per passare gli esami studiando all'ultimo momento applicando metodi di studio senza senso eccetera quali sono gli esami che mi ricordo quelli che mi interessavano davvero io tornassi indietro palesemente dovrei studiare psicologia perché è quella che è la mia materia infatti tutti gli esami che io ho dato psicologia cognitiva psicologia della comunicazione psicologia generale neurolinguistica e neuropsicologia quelli lì me li ricordo me li ricordo perché quella roba lì mi piaceva stessa cosa tua io ho scritto economia aziendale perché poi puoi guadagnare c'è tante opportunità quello anche qui un altro errore vedi quanti temi escono fuori alle dobbiamo rifare tu da me quanti temi quando usci l'università soltanto per la brochure delle opportunità di placement quella roba tristissima cioè l'università è un ufficio di collocamento perché poi dopo così lavoro nella multinazionale faccio i milioni perché quella è una roba cioè se tu sei un appassiato di storia cazzo studia storia se ti piace la psicologia eh ma psicologi tutti pensi alla via tutti pensata ma se tu sei uno che è ossessionato dalla psicologia e dalla sociologia e gli piace tu sarai migliore del 90% di quelli che hanno studiato quella materia e probabilmente sarai un punto di riferimento del settore quindi studia quello che veramente ti piace poi io capisco una cosa ma io non lo so sono tanti ragazzi e io non lo so tu non lo sapevi io non lo sapevo ce ne siamo accorti studiando che no dopo quindi il tuo messaggio è importante se anche per accorgere dopo ragazzi cambiate 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 cazzo madonna io sono rimasto lì cambiate sì senza galleggiare perdere tempo è cambiato non è una sconfitta anzi è una consapevolezza in più che avete raggiunto e se io pensavo adesso cambio scienze politiche e poi non mi piace neanche scienze politiche e cambi di nuovo devi prendere cambi di nuovo fin quando non trovi quello che se puoi permettertelo perché purtroppo siamo comunque in un paese classista classista perché adesso per esempio una battaglia che ho portato avanti poi ti faccio l'ultima domanda e ti lascio andare che ti sto rubando una quantità di tempo l'ultima poi devo rispondere a uno però dicevo io per esempio sto portando avanti ogni tanto dico questo tema cioè durante il covid tutte le università si sono attrezzate per fare le video lezioni finito il covid le hanno tolte ma è la gente che ha una disabilità è la gente che si ammala è la gente che non ha i soldi di vivere fuori sede ma questa è una discriminazione incredibile bravissimo dovrebbe bisognerebbe pretendere le video lezioni pretendere le video lezioni perché se tu dici non abbiamo i soldi lo capisco ma durante il covid tutti si sono dotati dell'attrezzatura quindi ci sono le attrezzature ci sono ce le hanno quindi una questione ideologica no devi venire qua devi via il treno ti ricordi quello che dicevo esatto e chi non può chi non può che cazzo fa chi non può è povero cazzo i suoi questo è il messaggio e a me questa cosa qui fa molto male molto molto male vai che poi ti chiedo l'ultima cosa vai 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 sì sì Germano perché odi dal profondo l'e-commerce alla fine è una professione come un'altra se non fosse stata stuprata dai fuffa guru questo ci tengo perché Ale non mi conosce probabilmente buona fede non mi conosce amico mio io faccio e-commerce al 2016 ho seguito e-commerce e ho fattuto milioni o dicevo col mio e-commerce adesso io ho fatto 2 milioni ho una start-up che ha un e-commerce su quale venderemo un tool di fotoritocco quindi io non odio assolutamente se trovate esco le dashboard Germano mi dice c'è una live di 2 ore dove io andavo il mio e-commerce con l'excel quindi questo è sbaglio io non odio io odio chi spaccia l'e-commerce per attività facile e questo per una passeggiata di campagna che puoi farti senza competenze mezz'ora al giorno a casa senza budget e fai soldi è questo che io contesto ma e-commerce io vivo c'è l'anni lavorando con e-commerce quindi non è assolutamente vero scusami vai dimmi poi no 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 volevo semplicemente chiederti di raccontarci l'ultima avventura volevo sapere Germano come mai sei entrato in guerra con Netflix e poi lasciarti andare e quindi è vero che diciamo così è vero che Netflix ti ha denunciato ti portano in tribunale Netflix tribunale sì per contraffazione del logo cioè capito come se fossi una borsa Gucci fake capito io ho contraffatto il logo di Netflix allora no tra l'altro li devo chiamare per un attacco con te li chiamo chiamo è l'ufficio legale non è non il signor Netflix ho detto che conosco il fondatore conosco chi in Italia tutela il brand di Netflix come studio legale perché lo conosco perché io volevo registrare il brand e toc toc si può fare in questo modo sì Fuflix loro non possono dirmi niente è chiaro che il logo non potevo registrare il logo che era chiaramente ripreso il logo del 2014 però no è stato sempre quel cialtrone unico il socio unico Matteo Saba il fake president che ha fatto un fake report è un uomo che è falso anche nelle azioni che fa cioè lui ha scritto a Facebook il mio gruppo non c'è più il gruppo Fuflix al momento 30.000 iscritti 30.000 iscritti 3 anni di storico migliaia di post un gruppo apprezzatissimo che erogava un servizio pubblico proprio di segnalazione alla Fufa e tu lo sai bene sparito da oltre una settimana il 19 di settembre è sparito alle 2 perché questo cialtrone ha fatto una segnalazione per brand violation e fingendosi Netflix c'è scritto che azienda sei Netflix Inc dacci una mail di riferimento ms.matteosabaholding.com e la beffa è che questa mail questa mail me l'ha data Facebook cioè Facebook mi ha detto guarda se vuoi contestare col proprietario dei diritti manda una mail qui ah quindi contesto a Matteo Saba i diritti tra l'altro si spacciarsi per Netflix credo che questo si che sia un illecito io credo che no no ma tu di chiari mi spiegavano dal lì sotto la tua responsabilità di essere effettivamente il detentore dei diritti di quel brand non è che io posso quindi lì ho segnato la cosa a Netflix tra l'altro non mi rispondono da una settimana quindi adesso chiamerò e dirò e tutto a posto che cosa è successo perché in realtà il favore che poteva farmi Netflix era scrivere a una mail specifica che ho avuto e dire guardate non siamo noi cioè ma poi ti posso dire una cosa e chiudo se anche io avessi utilizzato un logo troppo simile tra l'altro quello che dicevo io è un logo del 2014 quindi 10 anni fa ma comunque è tutelato lo stesso ok Ned dice guarda io non sono d'accordo che tu si so lo devi cambiare benissimo modifico il logo ma non è che mi butti giù un gruppo intero perché c'è un logo sull'immagine di copertina cioè questa è la follia capito se c'è un logo sull'immagine di copertina se anche fosse stata Netflix a segnalarmi tu non è che mi butti giù il gruppo preventivamente Facebook Facebook va con la mannaia allucinante veramente allucinante ma adesso cioè ci sono buone probabilità che torni però il gruppo cioè allora io però ti devo dire la verità sì ho segnalato la cosa pari contatti ho smosso di dire tanta gente si è mossa per aiutarmi a tutti i livelli anche in Facebook però vedi che cosa assurda è passata una settimana una roba auto evidente non è che dici vabbè c'è un contenzioso tra te e Netflix vogliamo un attimino prenderci il tempo no ho visto Netflix non c'è niente quindi il gruppo me lo devi rimettere su però io sto pensando una roba una piattaforma che si sputa così sui tuoi asset no che ti tutela a zero io lo rifa risale il gruppo e se domani un altro simpaticone fa la stessa roba succede di nuovo e potrebbe succedere di nuovo anzi adesso è come se Saba avesse aperto cioè adesso tutti quelli che vogliono sanno come colpirti sì sì voglio sperare che non siano così ottusi da ricadere due volte questa cosa magari avranno fleggato ti aspetta prossima volta poi io cambierò il logo il logo è già cambiato non è più quello lì quindi se magari hanno una deficienza artificiale che vede se robe dovrebbe dovrebbe che poi è sempre dovrebbe quindi io sto pensando di non tornare cioè di avere il gruppo su Telegram che già ha 4.000 iscritti la newsletter su LinkedIn e poi noi avremo la nostra piattaforma proprietaria che sarà su fuflix.it e non consigliare più Facebook un luogo sicuro e utile sul quale lanciare questa roba perché non è non mi offre garanzie capito su questa roba qua purtroppo il fatto è che Facebook è chiaramente molto comodo per gestire il gruppo e soprattutto i gruppi cioè le persone vanno dove sono abituate ad andare e quindi se tu già usi Facebook di per sé è molto difficile spostarsi su fuflix.it per questo secondo me sarà molto importante Germano e per questo voglio anche promuoverlo il canale YouTube cioè questo secondo me è importantissimo cioè chi ci sta guardando andate e se vi piace quello che fa Germano dategli sti 2 euro al mese piuttosto che darli capito al bar per uno spiz dategli le donazioni spot con i Superchat credo si possa fare anche con te penso ce le attive no io non ce le attivo le donazioni su Superchat però lo farò prima o poi lo farò però ecco è fondamentale cioè il servizio il servizio che eroghi è un servizio fondamentale ed è un servizio che però funziona meglio se c'è una community e quindi chiaramente cioè tu da solo non è che puoi fare sto lavoro così molini a vento e via bisogna che ci sia della gente che collabora quindi da questo punto di vista io sono felice di essermi iscritto tra l'altro io mi sono iscritto a Fuflix che era per esempio era un anno e mezzo fa o due anni fa non mi ricordo perché qualcuno aveva chiesto di me e quindi io non conoscevo mentre era iscritta a Fuflix Marzia la mia collaboratrice la quale mi disse guarda che c'è della gente che parla di te su Fuflix io non so che cos'è Fuflix dice guarda iscriviti così puoi rispondere tra l'altro quella fu un'occasione molto bella perché una delle pochissime volte in cui ho avuto una discussione civile cioè una persona ha espresso dei dubbi legittimi sui miei corsi e ho risposto e la persona ha detto ok va bene basta ah vedi vedi quindi a differenza di quello di qualche cialtrone che dice qualche cialtrone noi non mettiamo in croce la gerente così perché ci piace cioè se tu sei un professionista valido e finisci su Fuflix è un'occasione madonna per me è stata un'occasione pazzesca ho conosciuto Francesco Galvani così e adesso ci lavoriamo cioè lui la sua agenzia di marketing ci sta seguendo voglio dire per me è stata una super occasione siamo conosciuti noi ci siamo conosciuti noi due quindi voglio dire il problema del vengo reclutato su Fuflix è perché probabilmente c'è qualcosa che non va che devi rivedere nella strategia di comunicazione nella strategia di quello che ti pare però quello è un gruppo fondato dove ci sono una marea di persone competenti oltre che vittime di scam c'è anche un po' di tossicità te lo devo dire c'è c'è però vabbè vabbè sui 30.000 iscritti no quando hai 30.000 iscritti è statistico io poi sono da solo adesso ho avuto dei moderatori che mi aiutano mi sento quella roba lì controllare in tempo reale tutti i commenti è impossibile riceviamo 9.000 commenti al mese è una roba assurda però sul gruppo poi c'è sempre quando il gruppo è molto seguito ha molta interazione c'è un po' la sindrome del fenomeno allora io magari arriva uno che mi dice sono stato fregato e c'è i cretini che fanno le battute fanno i figli ora quelli li banno li cazzeo pubblicamente perché c'è quello che deve purtroppo è la dinamica di tutti i gruppi che arrivano a una certa popolarità capita che ci siano queste cose vanno controllate vanno moderate poi le teste di minchia ci sono ovunque su 30.000 iscritti è inevitabile che ci siano per forza però è una bella cosa quindi io spero che torni e spero che comunque la nuova piattaforma tutto quanto spero però che anche il gruppo facebook torni attivo perché comunque questo è un lavoro è un baluardo di correttezza ecco penso che anche le persone a cui tu puoi legittimamente stare sulle palle perché io ho letto anche commenti di gente che diceva ah Germano Milite è antipatico a posto va benissimo non è questo il punto non è questo il punto penso che anche le persone che ti reputano antipatico possano vedere che il lavoro che fai è un lavoro importante e ci sono poche persone in Italia che lo fanno perché in Italia purtroppo è poco tutelata la figura di chi si occupa di queste cose cioè Coffi Zilla è protetto dalla legge negli Stati Uniti noi cioè basta che tu dica una parola sbagliata cioè lui chiama scam le cose se tu chiami una cosa truffa poi paghi tu infamato no ma poi non solo anche YouTube in America funziona diversamente rispetto a qui qua sai fanno gli strike qua abbassano due strike e il canale viene in più e lì lui oramai ha sicuramente contatti diretti con YouTube America e qui è tutelato anche dagli eventuali strike che gli buttano giù però ti fai una nomea che se provano a buttarti giù il canale tu gli fai una pubblicità negativa enorme e quindi magari questo è un deterrente io per questo è importante iscriversi al canale sedentar come dici tu essere una community cioè non Germano Milite ma la community di Fuflix infatti il canale porta il nome di Fuflix non porta il tuo nome no no infatti io pure quelli che dicono la Germano Milite di Holding io anche qui diffido di chi dà i nomi e i cognomi suoi alle aziende no sempre ci sono le eccezioni allora io c'è no 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 c'è c'è la sigla c'è la sigla c'è ADC 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 io però volevo io volevo chiamarla inizialmente però mi hanno impedito i miei collaboratori io volevo chiamarlo ADC Imperium SRL bellissimo ancora più sobrio ma mi hanno impedito ci sono le eccezioni però capisci ma tu hai un'azienda tu perché due cose se tu la chiami Matteo Sabba Holding ma che holding di cosa sei ridicolo se tu fai un'azienda tua personale si la puoi chiamare la Germano Milite essere gemelle la puoi chiamare è stato ci sta è una roba piccola però quando tu fai il mega imprenditore non parlo solo di Sabba chiunque no io sono un mega e poi la chiami nome e cognome tuo costa un po' una roba che cioè non è che Steve Jobs la Apple ha chiamata la Steve Jobs LLC giustamente però ti fanno una c'è Maddalena che scrive Giorgio Armani Fuffa Guru hai ragione hai ragione hai ragione prende la moda sono tutti così però è proprio un trend tutti hanno i cognomi degli stilisti Hermione Gildo Zegna palesemente Fuffa Guru sono tutti presenti Fuffa Guru non comprate Giorgio Armani e Gucci mi raccomando per carità fantastico Germano bisogna bisogna rifarla perché ho altre 7 milioni di domande da farti però ti ho rubato due ore quindi ho una call non ho una chiamata ho proprio una call alle 17 anzi alle 5 pm ok quindi fra 4 minuti esatti 4 minuti quindi Germano intanto grazie grazie del lavoro che fai ma soprattutto grazie di essere venuto qui a dedicare il tuo tempo replicheremo replicheremo presto e non vedo l'ora da me tu da me la prossima volta volentierissimo abbraccio a presto grazie a tutti che ci hanno seguito ciao 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 Ciao.